ernesto c'è innanzitutto ci devi spiegare perché sei venuto in questa umile dimora sottoterra qua nella zona di milano e porta romana per parlare con noi che siamo degli umili podcaster 12 come cazzo si fa a fare più di tre milioni di views su ted cioè sei l'italiano che ha più views di tutti di gran lunga forse l'europeo sì c'è una roba ma come si fa come si è quella in seconda lingua non solo solo non solo ho avuto tre figli neanche parlando nella mia lingua quindi ho parlato più o meno è quasi e otto e immediatamente mi ha chiamato una signora che insegna inglese qui in italia dicendo faccio vedere il tuo ted a tutti i miei studenti dicendo anche se non perderai mai l'accento italiano però puoi comunicare in inglese e gli ha detto vorrei tanto che lo vedesse renzi non so perché questa cosa a parte che l'accento secondo me agli americani piace cioè se non è esagerato adesso ti devo tu sei quasi madrelingua inglese perché da quanti anni capita negli states cioè lo so però però se non impari una lingua prima dei 10 12 anni avrei sempre un accento certo ma io vi devo raccontare una storia importantissima perché penso che sia molto interessante a tutti i ragazzi italiani che vanno all'estero io quando arrivai io l'ho sempre parlicchiato l'inglese perché da bambino dai 9 anni agli 11 anni mio padre diventò primario radiologo all'ospedale civile di bengasi in libia e quindi andai ad una scuola che è una scuola italiana dei fratelli delle scuole cristiane però in quella scuola tutti i miei compagni erano di altre nazioni e si parlava si parlicchiava inglese si si studiava arabo quindi ho studiato arabo per tre anni e l'inglese ce l'avevo sempre nell'orecchio poi l'ho studiato però quando sono arrivati in australia io ho avuto una crisi esistenziale perché non si c'è niente perché non era difficilissimo farmi capire e io ci ho messo cinque anni per raccontare una barzelletta in pubblico cinque anni che poi diventa nell'umorismo è l'ultimo livello e fino a quando non puoi raccontare una barzelletta con un gruppo di australiani amici perdi un po di te perdi un po della tua vita e voi l'avete conosciuto siete stati all'estero sapete di cosa parlo però io siccome ho trovato un lavoro mi hanno offerto poi se abbiamo tempo vi racconterò ma io sono stato ho fatto un progetto il governo australiano mi ha detto voglio ti vogliamo offrire un lavoro e ho detto io non posso lavorare perché sono uno studente e questa questa organizzazione federale del governo australiano mi disse noi siamo il governo facciamo quello che ci pare ci piaci vogliamo e ti diamo il visto per lavorare perché volevano poi ve lo racconterò comunque sia come si faccia come mi ha messo arrivato cioè come si è arrivato perché ti hanno chiamato chi è che ti ha chiamato e perché ti hanno messo li fammi finire la storia di di questa questa cosa che devo raccontare che importantissima a quelli che vanno all'estero giusto quando io lavoravo per questa organizzazione delle arti federale australiana l'australia council che è basato sul british council la stessa cosa io avevo una crisi dicendo io devo imparare a parlare l'inglese senza accento e quindi mi sono mi preoccupava molto questa cosa poi avevo anche persone mi sfottevano per come parlavo il mio accento e quindi e 25 amministratori di varie organizzazioni artistiche australiane furono invitate a passare quant'era due settimane di un di addestramento intensivo in un posto meraviglioso a sydney di fronte all'opera house kiri billy house e io mi trovai con 24 australiani che avevano lavoravano per la opera house tutte le organizzazioni più sofisticate delle arti la seconda settimana ci insegnarono come si parla se sei intervistato in televisione venne un direttore della abc australiana broadcasting commission e ci intervistò con la telecamera per dire guarda quando ti intervisto devi fare così e quando mi intervistò mi prese da parte e mi disse ernesto whatever happens do not lose your accent qualsiasi cosa succeda non perdere l'accento don't lose it use it don't perde l'accento usalo usalo tuo vantaggio e quindi lui mi questo questo lo devo dire a tutti quelli che andranno all'estero anche di non avere non avere il problema di autostima di non cercare di integrarsi ma di essere orgogliosi di chi sei c'è che quando ho iniziato a fare noi siamo formatori nella cultura finanziaria in italia ed è il nostro progetto è nato perché a un certo punto su twitter avevo iniziato a parlare di trading e ho iniziato a fare questi webinar adesso vanno di fanno tutti però noi siamo partiti più di un decennio fa e in maniera proprio sprezzante di ogni tipo di pericolo parlando come si parla in italia inglese senza essere mai stati all'estero comunque poco con un accento esagerato e me ne fregavo perché era talmente invasato di trading che poi comunque la tecnologia la talmente tecnica che chi se ne frega mi dicevano su twitter io parlavo in inglese mi dicevano avevo proprio dei clienti australiani neozelandesi che poi uno l'ho incontrato anche dal vivo mi fa me lo sai che io alla sera poi faccio apposta a parlare come parli perché mi piace talmente tanto e mia moglie mi fa ma come cazzo è da un po di tempo che hai questi delle parole stane perché sai che noi magari italiani sbagliamo usiamo tipo una volta con dell'inglese andiamo a nuotare no let's go non è che ho detto let's go to swim let's have a bath che gli inglesi dicono ma hanno guardato dicevano ma che senso un bagno insieme e allora fa ridere invece gli americani gli italiani li piace a noi italiani la cosa ci bella che che io mi inventai perché io io leggevo molto perché stavo facendo un dottorato di ricerca quindi leggevo anche libri molto sofisticati però non sapevo come si diceva quella parola quindi ogni tanto mi uscivo fuori con di le levami la vocale alla fine wildness wildness invece di wilderness perché io non sapevo che era scritto wild la parola wildness wildness quindi la prima volta che mi esco in pubblico wildness tutti a ridere ma che cos'è sì 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 ho detto wildness quello l'ho scoperto due anni due anni fa l'ho scoperto anch'io wilderness wilderness e che ho detto sì però wildness suona meglio wildness è ancora più selvaggio comunque sai che una volta sempre quando invece dopo prima di questo progetto lavoravo normalmente avevo facevo il manager dell'azienda e c'era questa ragazza californiana che è arrivata no e io siccome dovevo parlare con le branch all'estero fare le presentazioni in inglese la usavo dicevo senti ma secondo te è giusto a questa traduzione if I can understand it's all right non capi non c'era la l'esistenza della del problema grammaticale o lessicale o sintattico fa yes I understand no problem ho capito che lo capisci però non mi interessa sapere che tu lo capisci mi dici se è giusto o sbagliato I understand it's ok quindi gli americani probabilmente non hanno neanche i nostri cugini francesi non sono così no 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 anzi tu fuori divertenti francesi comunque è un altro discorso ma no tu mi avevi chiesto come sono arrivato a essere invitato dal governo federale australiano a rimanere a lavorare per loro quando non avevo il permesso ed è probabilmente uno dei momenti più belli della mia vita perché non essere invitato ma il più bello il momento più bello della mia vita fu arrivare in australia e perché praticamente mi sono trovato a dopo quell'esperienza che avete visto sul tetto quando tutti i nostri progetti fallivano continuamente si arriva i pomodori si arrivava non invitati a dire alla gente che cosa fare e fino a quando gli davamo i soldi questi facevano tutto quello che gli diciamo da fare appena i soldi finivano tornavano a fare quello che facevano prima e certe volte c'era un disastro che succedeva ancora prima che noi ce ne andassimo il disastro succedeva lì tipo quello degli ipopotami che si sono venuti a mangiare i pomodori san marzano e hanno scoperto che erano molto buoni infatti gli ipopotami ancora mi iscrivono gli unici che ci amano in africa sono gli ipopotami dicendo ma chi erano questi ho fatto tonnellate di portate pure la pasta asciutta la nostra nella cucina italiana nel mondo apprezzatissimo dagli ipopotami e cosa successe che schifatissimo dopo 6 7 anni di questi progetti assurdi che poi era era proprio un'industria che badale badava a noi non a loro tutti i salari tutte erano per noi italiani con la consulenza progetti di una rita ridicoli comunque sia io scoprì questo libro meraviglioso di schumacher che si chiamava lo so as far as the motivation a scusa il libro si chiama small is beautiful e questo small is beautiful venne se ne innamorò il nostro mortadella a bologna prodi si innamorò conobbe schumacher e fece tradurre in italiano small is beautiful piccolo e meraviglioso e una studentessa di bologna che venne a lavorare nel nostro ufficio a roma mi disse quando io disgustato un giorno proprio non ce la feci più sbottai dicendo che cazzate che facciamo e lei mi disse ah sei un po depresso e così sono molto depresso c'è allora guarda leggi questo libro questo ti butti dalla finestra detto grazie mi leggo il libro di small is beautiful e nel capitolo tredicesimo small is beautiful c'è una linea che la leggo e non la capisco dico ma che sta dicendo e la linea famosa era se le persone non vogliono essere aiutate lasciate in pace questo dovrebbe essere il primo comandamento dell'aiuto io non capivo che diavolo dice come deve essere le persone vogliono essere lasciate in pace da quando in quando sentiamo loro ascoltiamo noi facciamo i progetti perché noi siamo buoni ma poi noi sappiamo di loro quello che è giusto per loro ma come no ma noi ma come gli portiamo la cultura italiana la tecnologia italiana il dio italiano capito è la democrazia li portano questi si dovrebbero ecco si dovrebbero inginocchiare baciarci i piedi e poi schumacher invece questo dovrebbe essere il primo il principio dell'aiuto dovrebbe essere questo allora qual è il principio fondamentale e non capivo perché io pensavo che fosse noi avessimo una un obbligo morale di aiutare quelli che sono meno fortunati e allora mi lessi gli altri due libri uno era la guida agli ai perplessi e guide to the perplexed e l'altro era good work buon lavoro e quando mi sono letti ma mi sono vergognato è come se fosse uno schiappo in faccia chi credi di essere non si arriva non invitati a casa di altri ma come ti permetti e se lo facessero a noi che se uno arrivasse da noi a dire ti porto la cultura nostra ma chi sei ma come ti permetti come mai nessuno lo può fare a noi e noi lo facciamo a tutti io mi ricordo questa conferenza in texas austin texas la conferenza con duemila persone e nella prima fila c'era questo americano vestito come clint eastwood gli stivali a cowboy il cappello secondo me aveva la pistola a qualche parte non glielo vista ma sicura aveva la pistola a che mi sono rivolto a lui per fare il punto dicendo tu che cosa faresti se uno arrivasse un invitato guida dentro il cancello sei cancelli quelli dei ranch americani con le corna sopra arriva arriva entra dentro casa tua e non invitato e dice non mi piace come tu sta educando tua figlia tua figlia deve essere velata deve stare a casa con la madre imparare ad essere madre e questa va in giro a mezzanuta in macchina con i ragazzi e ho detto a questo texano tu se uno ti facesse così a casa che cosa tu faresti sai che ma riposta il test no mi ha dato molto più sofisticato mi ha dato il calibro che avrei 357 con la cartuccia esplosiva sai dam dam quella che ti esplode a che gli ho detto ah 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 you wouldn't like it if somebody would do it to you questo è successo prima o dopo il ted dopo il ted oh no prima io ho fatto da tanti anni che fai conferenze in giro per l'america ma io guarda ho scoperto questo questa metodologia e quindi ne parlavo sono stato invitato a moltissime comunità che dicevano ernesto tu è un progetto per lo sviluppo comunitario favoloso viene a parlare con noi quindi ho fatto conferenze tutto però no il ted io non ci volevo andare quando mi hanno invitato e che cos'è sto tempo manco il ted no 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 perché prima ci hai detto che anche quando ti ha chiamato fazio giustamente con tutto per uno all'estero da quanti decenni anche abiti in america 25 anni ha chiamato la rai ti ha detto ci sarebbe qualcuno no 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 ma è arrivato questo dicendo dovremmo intervistarla si viene e dico ma come vengo a milano gratuitamente perché tu mi vuoi intervistare non esageriamo poi dico non sono neanche persone ragazzi che mi piacciono anche io proprio l'ho ignorato completamente poi una settimana dopo una figlia che vive a roma ho detto senti mi è arrivato questa ma chi conosci questo programma televisivo e mia figlia ma sei pazzo programma più importante devi venire di vabbè allora abbiamo fatta però no l'invito ted io ero in italia in vacanza questa avevamo conosciuto in australia una ragazza 21enne 22enne di origine californiana che era lì allo stessa riunione con una azienda bellissima che si chiama arup se non conoscete arup arup è il danese che ha disegno che ha costruito l'opera house di sydney e questa ragazza lavorava con un un gruppo di futurologi dentro arup arup e non la chiamiamo arap ma in italiano in europeo arup arup è una azienda straordinaria con 10.000 impiegati però è una cooperativa una cooperativa di ingegneri internazionale che hanno fatto cose straordinarie comunque hanno fatto anche lo starbucks di milano arup ha fatto ha fatto il parasol di seviglia che è la costruzione di legno più grande al mondo quindi no arup è molto molto in gamba e e dentro c'era una dentro centro c'era un amico mio che era un futurologo per loro questo pensa che è uno che fa il futurologo loro studiano il futuro è bellissimo tra l'altro ecco una persona da intervistare ma questa persona mi disse viene a parlare con il mio team erano una quindicina di ragazzi molto giovani parlai con loro e questa ragazza mi disse senti io sono la coordinatrice del ted ex di christ church in nuova zelanda mio marito della nuova zelanda mi piacerebbe molto intervista avere te come ospite al mandò l'invito noi eravamo in vacanza in italia e io dico ma stiamo scherzando devi andare in california california nuova zelanda per 15 minuti di intervista dico ma siamo pazzi e lei mi fa tu devi andare è stata marta hanno pagato il viaggio e tutto per andare credo no non credo che abbiano pagato niente sentato quindi marta proprio a calci mi ha detto devi andare perché ted è molto importante e io questo era nel 2012 e io veramente ancora non credevo a questo social media che è esploso come esploso e ho detto fammi vedere un pochettino questi ted ex che cosa sono perché non era la piattaforma la piattaforma ted erano i ted ex di ted ex ce ne sono stati 22 mila 25 mila di ted invitati da ted ce ne sono 1800 ted ex dico fammi vedere allora ho guardato su google il numero di visualizzazioni di un ted ex la media sono 400 visualizzazioni e si è 400 al che dico io 400 me li faccio una conferenza parlo con duemila persone mi pagano zoom non esisteva ovviamente e quindi marta mi fa no guarda è molto importante devi andare però siccome io non ci credevo non ho preparato niente io sono arrivato col jet lag sono andato su sul palcoscenico dicendo siccome non la vedrà nessuno posso dire quello che mi pare e ho fatto io ho fatto un cazziatone a tutte le praticamente tutte le onlus tutti quelli che si occupano di perché ho detto delle cose pesantissime ed è stato quello che ed è stato quello che è stato molto disruptive quello che adesso anche poco politically correct mamma mia sbaglio da perché senti e basta sono 30 anni che 40 anni che faccio questo lavoro e non si impara mai c'è un'omertà pazzesca guarda che tu non puoi se tu lavori per una un'agenzia di cooperazione internazionale non puoi mai ammettere che hai creato un casino perché perdi contributi nessuno più di dei soldi quindi c'è un'omertà peggio della mafia ha fatto la croce rossa internazionale ha fatto delle cose pazzesche haiti haiti ha fatto delle cose sconcertanti non si può non puoi dire perché quelle poche che vengono scoperte dalla dalla stampa poi diventano scandali quindi non si può dire questa cosa e invece io ho detto ero lì sul palcoscenico ho detto non mi inviteranno più nessuno mai vedrà questa le 400 persone che subito almeno gli dico la verità secondo me secondo la mia esperienza lavorativa e quindi ho detto noi siamo imperialisti colonialisti missionari e abbiamo soltanto due modi di comportarci con l'altro 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 che sarebbe quello che non parla italiano quello che non parla inglese l'altro e questi due modi sono o li trattiamo come bambini o li trattiamo come dipendenti che è la verità perché quando arriviamo il negretto che bello gli diamo a tutti la carezzina la caramella o siccome ti impieghiamo devi sta zitto e per me è la cosa io ricordo che a 21 anni in zambia mi chiamavano buona che vuol dire boss io io non riesco a trovarmi il culo al buio e mi chiami mi chiami boss e il capo del del villaggio ci ha 16 mogli 120 figli è stato in tre guerre e è alto è alto 6 è alto un metro 85 cioè dei muscoli così lui chiama me boss come come mi non mi vergogno una cosa del genere quello che ci stai raccontando è presente un'altra forma di imperialismo di conquista c'è un modo più sottile guarda non è conquistare il territorio però comunque soggiogare in qualche modo il ministero della cooperazione internazionale inglese nello stesso edificio del ministero delle colonie interessante quando che mi ha il nome sopra la porta però interessante quello che dici tu cioè quasi come se fosse un riflesso incondizionato anche da parte loro di vedere l'uomo bianco ancora come boss arriva quello che che comunque se vuole qua conquista tutto non è cambiato niente infatti mi domandavo perché sto leggendo dei dei libri di lo dico ogni puntata mi scuso ma è lungo sono tre tomi della come si chiama perso il nome del dell'esploratore inglese che ha scoperto james cook e ci sono questi diari di viaggio meravigliosi però loro all'epoca quando arrivavano in polinesia e anche dalle parti della tua moglie cioè i maori pensavano che fossero degli alieni c'è degli dei che dicevano caspita questi non sono come noi sono delle entità sovra umane spiriti spiriti perché erano morti perché erano bianchi non avevano colore quindi erano spiriti non erano persone non erano esseri umani era una cosa stai un po attento comunque è però adesso non è più così adesso lo sanno che siamo come loro eppure c'è ancora questa di reverenza no coppia cambiato codipendenza il gioco è come ci vogliono due persone per essere codipendenti ci vuole l'alcolizzato e quello che lo perdona la moglie dell'alcolizzato ecco sì perché sofisticatissima e la codipendenza è così cioè non esiste l'alcolizzato senza quello che gli permette di essere alcolizzato quindi l'alcolizzato la persona ha una compagna che lui può brutalizzare perché lui quando subriaca mena però poi dice ti amo e lei rimane con lui e la soddisfazione dell'alcolizzato è che io sono una carogna però vedi che mi amano e quindi no ha bisogno della codipendenza sono due persone che hanno bisogno che è l'alcolizzato l'africano con tutto rispetto sì perché fino al momento fino al momento che tu gli porti i soldi ok poi il momento che perché ti arrivano appena arrivi loro dicono quanti soldi hanno questi che cosa vogliono facciamolo e trovi adesso moltissime persone che vanno da da onlus a onlus a onlus sono africani educati in gambissima che lavorano per progetto per progetto due anni con la cooperazione tedesca due anni con il prossimo progetto italiano solo è una professione di essere pronti a lavorare con chiunque arrivi con i soldi sai che mentre parlavi mi è venuta in mente non so magari una metafora assurda anche noi italiani facciamo un po così adesso con l'europa che ci deve dare questo recovery fund non so quanti miliardi dateci lì cioè siamo dipendenti dai vostri soldi infatti di colpo si è diventati tutti europeisti non so come dire i partiti ma no ma questo è un po no no ragazzi dovete dovete per capire che cosa sta succedendo dovete capire dovete studiare dei new monetary policy mmt new modern monetary theory perché la teoria monetaria moderna spiega che la nazione sovrana è quella che batte moneta perché se tu batti moneta tu non sarai mai in default perché paghi con la tua moneta se devi pagare debiti batti moneta e paghi con la tua moneta quindi la sovranità non può essere andare mai in default e soltanto quando usi la valuta di altri che ma in default e venezuela che usa il dollaro americano va in default l'argentina che ha fatto i debiti in dollari americani va in default ma tu non vai mai in default quando hai soldi tuoi perché non fai altro che battere mani moneta il momento che l'italia lascia la sovranità di battere moneta all'europa ragazzi noi dobbiamo diventare adesso europei tutti in fretta e dobbiamo avere il controllo del treasury europeo chi controlla il tesoro europeo quindi è importantissimo che abbiamo mario draghi in questo momento che mario draghi va lì dentro dicendo ei aspetta un attimo so benissimo dove sono lavoro noi siamo al tavolo con voi quindi non siamo al tavolo sappiamo abbiamo bisogno di soldi battete moneta dateci sì perché non è più l'europa che dice l'italia l'italia e l'italia e l'europa e quindi non ci può essere questo a me doppia via mi fa ridere un pochettino i sovranisti che dicono ritorniamo all'italia sì ma allora devi ritornare alla lira ritorni alla lira con tutte le conseguenze è molto difficile in questo momento tornare indietro secondo me e secondo me se torni indietro devi fare una politica come quella che vogliono fare gli inglesi ritorna diventiamo una svizzera finanziaria nella speranza che sopravviveremo in quella maniera io credo che siano oramai decimate le persone che ancora credano che possa essere funzionale all'evoluzione del nostro paese l'isolazionismo però io vorrei fare un aspetto anche un passo indietro perché prima abbiamo parlato di hollus noi abbiamo una piccola aziendina che è una CIC community interest company in inghilterra ed evolviamo il 65 per cento del nostro fatturato in microcredito cosa pensi del microcredito è orribile ecco è orribile perché è questo è il bazar atomico demoliamo questo è il titolo della puntata il microcredito è orribile è orribile perché boom la prima bombetta che sto apposta adesso ve lo spiego il microcredito e sono i soldi più costosi al mondo facciamo pagare ai poveri una media mondiale del 37 per cento di interessi però la la mamma del microcredito è la grameen bank la grameen bank in messico city fa pagare 7 per cento al mese pur che coltivo quindi si parla del 80 per cento di interesse l'anno si parla di usura a dei livelli vergognosi ci sono se volete vedere la gravità del microcredito guardate un articolo che dice microcredito e suicidi in india è una delle cause più serie di suicidi perché se questi poi queste poveracci questi poveracci si indebitano non riescono a pagare i debiti e si ammazzano perché altrimenti distruggono anche la famiglia quindi è pericolosissimo ricordate che le attività economiche non hanno bisogno di soldi hanno bisogno di ordini cosa intendi per ordini clienti clienti sei clienti e impieghi gli ordini li porti in banca ma non al microcredito le porti alla banca che ti dà ne ha vinto il premio nobel per la pace si junus si no 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 non era l'invenzione per la quale lui ha vinto il premio nobel non era il microcredito era come facevi ad ottenere il microcredito perché per ottenere il microcredito dovevi passare 12 mesi come una nuova donna in un gruppo di 20 donne con esperienza di affari e per un anno facevi un corso a formazione di formazione però soltanto la formazione era fatta da altre donne del tuo villaggio nel tuo dialetto soltanto tradizione orale quindi non per donne educate e queste altre 20 donne 25 donne erano responsabili se la donna che aveva era entrata nuova che non aveva mai chiesto prestiti dopo 12 mesi lavorando con loro capendo come funzionava chiedeva un dollaro anzi veramente da cinque donne chiedeva cinque dollari alla banca se lei non li ridava le 25 donne erano colpevoli quindi immagina la pressione in un paesino di campagna in india dicendo tu sei una di noi se se ti danno 5 dollari tu li devi ridare certo quindi noi ti aiutiamo ti facciamo capire come si mette su un'attività junus aveva inventato la harvard university la business school per le donne rurali indiane dove invece di avere professore all'università avevi un gruppo di vicine di casa che ti dicevano lavora con noi per 12 mesi e 12 mesi capisci come funzionano i soldi la responsabilità e tutto solo donne perché gli uomini figli di puttana scappare nero soldi bravo si è letta questa solo donne e però questa povera donna che si faceva prestare a cinque dollari doveva ridarli perché altrimenti le veniva ostracizzata dalle altre quindi lui aveva inventato un sistema di educazione manageriale a livello popolare fatto da tutte le donne cointeressate ed era geniale da premio nove invece la ford foundation americana che scoprì junus disse i poveri ripagano i debiti diamo i soldi ai poveri non avevano capito niente e junus è vecchio come me io conoscevo la grameen bank quando ero in zambia già la conoscevamo loro ed era un'idea molto interessante ma non per il presta i soldi vengono alla fine la cosa più importante da fare a livello di imprenditoria imprenditorialità a livello comunale e la conoscenza ma invece a livello finanziario perché ultimamente tipo anche rei dalio il famoso investitore trader americano comunque parlando della simmetria di ricchezza fra il primo secondo e il terzo mondo ancora citato il microcredito come una leva funzionale per dall'alto della tua pluridecenale esperienza come si fa a far arrivare denaro fresco forse non bisogna fare in modo che questo denaro produca una margine poi di ci sono più soldi che senso al giro per il mondo ogni banca in africa più soldi a disposizione che idee che attività economiche interessanti alle quali prestarli come da noi no che ci danno gli aiuti l'europa ma non sappiamo come spenderli o più o meno certe volte non li chiediamo neanche fondi perché non sappiamo i soldi non sono il problema quindi è proprio un problema di know how cioè di cultura finanziaria di cultura manageriale e tu ecco è lì che ti sei inserito cioè nel senso che sono 40 anni infatti però io vengo da una scuola diversa e tu mi avevi chiesto come mai il governo federale australiano ti aveva invitato ti volevo raccontare il perché perché penso che sia una storia divertente che non ho raccontato molto spesso e cosa successe che quando scoprì gli altri libri di schumacher mi resi conto capì qual era la questione se le persone non vogliono essere aiutate lasciate in pace questo dovrebbe essere il primo principio dell'aiuto internazionale allora qual è il principio d'aiuto internazionale la cosa mortificante è che mi sono reso conto che il vero principio è il rispetto se tu non rispetti le persone non le puoi aiutare e quando ho capito che noi noi non avevamo nessunissimo rispetto nessuno perché noi nel nostro proprio nel nel midollo spinale noi crediamo di essere meglio e anche se non lo diciamo perché non è educato dirlo però noi crediamo di essere meglio di tutti gli altri al mondo se anche se poi secondo me la gente iniziando a viaggiare di più in certi paesi ha iniziato a dire ma non è che questi stanno un po' meglio di noi ora come ridono cioè sono poveri non c'hanno i denti ma mi sai che fanno tipo cento volte i sorrisi che io faccio in un anno se è un po' una banalità questo è un luogo comune è un luogo comune però ti voglio dire che il fatto era che noi veramente pensavamo e io la chiamo meta arroganza sai che meta la parola meta e oltre e viene dai libri di aristotele il primo c'è libro di fisica e poi c'era meta fisica il libro che veniva dopo il libro sulla fisica io chiamo quello che noi di cui noi soffriamo meta arroganza una meta arrogance è un'arroganza talmente estrema che è invisibile al portatore incoscia inconscia una una arroganza inconscia ed è un fatto proprio di cultural egemonia egemonia culturale dove noi siamo italiani e parliamo italiano ci vestiamo italiano studiamo i classici italiani e alla fine non non ci pensiamo di essere persone particolari il bambino libico mi diceva quando io avevo nove anni il bambino il mio amico di scuola e compagno di scuola libico mi diceva che la libia aveva l'esercito più forte del mondo ognuno della sua a queste a noi abbiamo queste illusioni queste delusioni che tra l'altro c'è anche un termine un termine scientifico si chiama scotoma lo scotoma e il black il blind spot blind spot si chiama scotoma e quindi se quando aveva fare la visita oculistica abbiamo parlato con la loredana che c'è un punto in cui non puoi non puoi vedere perché c'è il nervo ottico arriva lì quindi dove c'è il nervo ottico alla fine al dietro dell'occhio dove c'è il nervo ottico lì non arriva la luce quindi in quel punto è un punto e persone che hanno l'incidente di macchina e perché c'era il motociclista che era proprio lì invisibile per un secondo era proprio nel tuo blind spot il punto come si dice blind spot punto cieco anche io voglio tornare a dire questa fra quindi lo scotoma è questo di è questo di dire noi non riuscire a vedere se stessi non riuscire a vedere i nostri i nostri pregiudizi e e allora quando ho capito che noi avevamo questa questa terribile questa questa questo limite culturale di non riuscire a vedere gli altri e noi quindi non lavora non lavorare mai in modo rispettoso io ho detto allora giriamo la frase se le persone non vogliono essere aiutate lasciate in pace giri la frase aiuta quelli che vogliono essere aiutati e allora ho preso il small is beautiful l'unico libro l'ho portato la prima università al mondo che mi avesse accettato per fare un phd un dottorato di ricerca fu un'università in sudafrica perché in quel momento volevano tutti i bianchi possibili quindi c'era c'era l'ambasciata di roma della sudafricana che accettava chiunque fosse bianco e io sono arrivato ho fatto questa proposta mi hanno accettato in nella università più su bianca supremazista del mondo che era stellenbosch e io fu il primo straniero nella storia di stellenbosch ad essere accettato a fare un phd in scienze politiche perché la tesi del mio che io proposi era la psicologia umanistica della crescita e la tecnologia appropriata come come fondamenta per una nuova scienza della politica e loro mi accettarono senza capire che diavolo se volesse dire mi accettarono io ho questa lettra in afrikaans bellissima che non capivo una parola l'afrikaans sai dicono che il dutch da perché arrivavano da lì dicono che come l'olanda dicono che come il tedesco parlato sott'acqua è un tipo un bergamasco è come è come l'italiano parlato sott'acqua dei bergamaschi e quindi arriva mi invitarono mi accettarono a questa tesi e io andate dai miei professori dicendo voglio fare lo sviluppo in risposta che sono in risposta a una domanda e vogliono voglio diventare la persona che viene invitata da comunità in difficoltà e quando io voglio arrivare mi voglio sedere sotto l'albero di baobab con le persone mi hanno invitato dicendo perché mi avete invitato e voglio che loro dicano ti abbiamo invitato perché abbiamo questo tipo di problema e voglio diventare e voglio fare una tesi che dimostra lei il fondamento della psicologia umanistica la psicologia della crescita che sarebbe la terza scuola di psicologia c'è la scuola di psicologia che esce fuori da froi del frodianesimo che è una che ha creato una sociologia della repressione perché frod diceva dovevi reprimere le tue passioni e quindi la psicologia di frod ha creato una sociologia del re cannone devi reprimere le masse ci deve essere un ci deve essere una parte intelligente della popolo del corpo della popolazione della civitas che reprime queste è quello che stiamo vivendo adesso nel senso che richiediamo che il secolo scorso è stata ancora più pesante era il re cannone sparavano addirittura sulla folla con la cannonate per così la collega di quella è delle prime per essere poi c'è il il comportamentalismo degli anni 50 dove il tecnico riesce a controllare noi la il popolino senza far accorgere al popolino che è controllato e diceva skinner che il capo stipide il capo il fondatore della scuola di comportamentalista dice noi possiamo arrivare a un livello di sofisticazione talmente tale che la persona che è controllata non sa di essere di essere contro questo mi sono più attuale in pratica era aldous axley contro la george orwell invece di reprimere il popolo anestetizza lo controlli però lo controlli con due con due con due carote e bastone cioè positive e negative reinforcement rinforzare in modo positivo negativo lo facevano già gli antichi romani pane pane bene 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 in quel caso il con addirittura con skinner skinner dis una una frase famosa che non lui non trovava nessuna differenza tra il comportamento di un topo di un uomo l'unica differenza era nel nel mondo della lingua delle capacità linguistiche perché tu puoi controllare come si muovono le persone come controlli e lo fai con dando la caramella o lo schiaffo a tua figlia e cosa è successo che questa scuola skinner ha avuto un grandissimo successo perché poteva provare scientificamente cosa succede dopo tre volte che becchi la scossa non ci vai più qui detto vedi che funziona certo che funziona però si è anche scoperto che gli esseri umani sono molto più intelligenti dei topi perché sanno dopo un po riescono a capire che dal tuo comportamento che cosa vuoi che allora tua figlia dopo la seconda volta che tu l'hai improverata perché arriva da casa tardi o se vestita con la gonna troppo corta tua figlia impara a cambiarsi prima di rientrare a casa e tua figlia che cosa tieni con il comportamentalismo che tua figlia non ti dirà mai più la verità perché se tu la prendi a schiaffi ogni volta che dice la verità tua figlia ti dirà sempre le bugie la scuola che io ho diciamo di psicologia che io che praticamente io seguo che dalla quale mi sono innamorato e la scuola di abraham maslow carl rogers eric from adle the league est al test di post post behaviorist e loro hanno una frase che mi fa impazzire di una bellezza assurda per loro per ogni persona adulta e sana a il sogno di migliorare se stesso e per me questa è una cosa di una bellezza pazzesca assurda quanti sani ci sono però quanti quanti sani ci sono siamo tutti sani tutti quanti quelli che hanno la possibilità di crescere sono sani tutte le patologie sono mancanza di possibilità di crescere quindi il momento in cui tu non c'è una 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 storia che car rogers che diciamo il padre della psicologia moderna car rogers racconta un episodio che commovente lui dice che da ragazzo lui cresce era cresciuto in una fattoria nel mid west e loro tenevano le patate in cantina e in questa cantina buia c'era soltanto una finestrella a due metri di altezza da dove c'erano le patate nelle casse di legno e queste patate in queste condizioni assolutamente infelici germogliavano e creava questo filamento che andava verso la luce e lui detto questo è l'essere umano in condizioni avverse e mi ricorda questi filamenti che sono mostruosi rispetto a una vera patata sana questi filamenti mi ricordano i pazienti dell'ospedale psichiatrico dove sono che anche in condizioni mostruose vanno cercano di arrivare alla luce se tu togli quella patata da quella quella casta la metti in terreno in un terreno fertile e gli dai l'acqua e la luce ti esce fuori una patata il contesto il contesto quindi di una bellezza assurda quindi sei un puoi essere anche un sacco di patate ma il potenziale di germogliare in qualsiasi condizione ma io ti voglio credere una cosa perché detto varie cose interessanti prova unirne perché all'inizio è detto che noi andiamo in africa o da persone popolazioni che consideriamo inferiori svantaggiate per arroganza però dopo hai detto poco fa e che noi siamo portati miglioramento allora io provo a darti un'intuizione una chiave di lettura diversa mi dici se valida se la sposi se ci si può ragionare sopra ovvero che magari non andiamo per arroganza andiamo perché non ci stiamo noi stessi magari vediamo che non riusciamo a migliorare e allora quello l'unica cosa che ci rimane da fare è come valvola di sfogo di questo impulso di andare dagli altri dirbe facciamo migliorare gli altri producendo però l'errore che cerchiamo di conformarli a noi e non migliorarli verso la loro via di sviluppo unica che hanno a ogni persona riesco a migliorare me stesso faccio migliorare qualcun altro che parte a livello più basso esatto cioè non come arroganza ma proprio come non so più cosa fare provo a fare almeno questo per sentirmi magari in maniera goffa realizzato che questo forse sì ma paternalismo si chiama paternalismo ed è di un di un doloroso di un io ho avuto ho parlato ad una riunione nuova zelanda credo fosse nuova zelanda e dopo la mia chiacchierata questa signora che era un gruppo ristretto e mi venne a parlare impallidita perché le ha detto mamma mia mia figlia fra una settimana lascia la nuova zelanda per andare in paese africano a lavorare in un orfanotrofio per sei mesi e dopo che tu che hai detto quello che hai detto sono preoccupata per mia figlia anche io le ho raccontato una storia che mi è stata detta da una donna da una nostra amica dalla zambia e lei è andata in ritornata a casa credo che fosse in zimbabwe e un giorno è andata a trovare una persona che lavorava in un orfanotrofio come lei è arrivata questo bambino di due tre anni gentilissimo gli è saltato addosso lui ha adottato lei per quel giorno così e lei lui ha detto a lei torni domani torni domani lei ha detto sì torno domani quando lei è tornato all'orfanotrofio il bambino che l'aspettava la presa per mano l'ha portata dall'amica che era diciamo la direttrice dell'orfanotrofio ha fatto sedere questa nostra amica sulla sedia e ha detto di fronte a lei ha detto l'amica e lei ha detto non capiva e lei che mi porta a casa con lei e allora io ho raccontato la storia di cosa succede quando in un orfanotrofio africano arriva la volontaria italiana tedesca americana a fare sei mesi di aiuto ai bambini che bambini vedono questo angelo che arriva e questo angelo rappresenta per loro il futuro questa è la mamma che mi si porta via dopo sei mesi l'angelo se ne va quante volte potete rompere e spezzare il cuore di un bambino in pennsylvania ho parlato una conferenza e questo signore si è alzato da me dicendo mio fratello ha un orfanotrofio in bulgaria i bambini si rifiutano di conoscere stranei per non affezionarsi quante volte gli vuoi rompere il cuore spezzare il cuore devi stare attentissimo perché se tu vai in un orfanotrofio perché ci vai per quello che diceva enrico perché tutti i ragazzi americani italiani tedeschi danesi che vanno a fare il volontariato in africa tutti tornano migliorati ha fatto comodo a loro alla educazione che cosa lasciano dietro misera puoi raccontare in tanti modi cosa lasci dietro super rock and roll questo no interessante è un punto di vista post moderno e ma quasi tutto quello che facciamo in realtà spesso ce la raccontiamo diciamo fatto questo perché così e poi in realtà è solo un'esigenza è sempre a sempre tutta la cooperazione internazionale a che fare con noi i donatori è tutto concepito per noi per per assecondare i nostri bisogni le nostre esigenze per accedere ai nostri fondi di cooperazione internazionale però il noi comunque esisterà sempre cioè la nostra esigenza come umano persona io avrò sempre delle esigenze come faccio a far sì che le esigenze poi bacino ma sono in bocca alle esigenze di una sono qui con la soluzione allora che sarà solo l'intro ci sono ci sono tre strade paternalista patronizing come la parola patronizing in italiano non c'è è un peccato perché ci dovrebbe essere paternali sono tutte e due vengono dalla parola pater paternalista ce l'abbiamo come quella inglese gli inglesi poi hanno questa parola patronizing che vuol dire trattare tutti come se tu fossi il padrone spadroneggia spadroneggiare alla non è bella come però è spadroneggiare noi arriviamo noi ti impieghiamo sta zitto fai quello che ti diciamo di fare pianta i pomodori e stai zitto sì io li pianto ma ti posso dire no pianta i pomodori ma qui ci sono gli no pianta i pomodori pianta i pomodori e poi si mangiano e poi loro si mettono a ridere di noi noi vogliamo spadroneggiare quando non sappiamo neanche che ci sono gli ippopotami lì c'è una terza strada e la strada è la facilitazione delle loro idee quindi tu vuoi aiutare veramente vuoi fare il volontario in africa stai zitto ascolta capisci quali sono i problemi e poi aiuti loro con la loro passione la loro intelligenza se tu hai una tecnologia che è appropriata allora la loro situazione e quindi io quando io arrivai con a dire io voglio fare la diciamo la l'aiuto in risposta io volevo dire io voglio fare quello che penso sia la cosa più appropriata nel senso che come facciamo noi ad arrivare con la nostra soluzione se non conosciamo neanche il territorio è un po come la barzelletta del 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 turista che sta camminando in montagna e che c'è lì quello che bada il contadino che bada le vacche e il turista che lo chiama da dietro e questo si gira dice quanto tempo ci metto al rifugio è quello si ferma lo guardano gli risponde e questo dice che cafoni questa gente rurale proprio cafone comincia a camminare il contenuto gli fa un fischio questo si gira col tuo passo due ore come faccio a dirti se non vedo come cammini quindi ecco questo tipo quando io arrivai all'università in sud africa e dissi io voglio fare lo sviluppo in risposta e loro mi dissero noi non crediamo che tu possa fare lo sviluppo in risposta perché ernesto se ti devono se una comunità immaginiamo che tu hai fatto un qualche cosa di talmente fantastico che le comunità ti chiamano chiedendoti di andare non come missionario che il missionario arriva non invitato anche il missionario tecnologico anche il missionario ambientale arriva non invitato io credo che io so più di te cosa fare con l'ambiente per cui io arrivo come missionario ambientale persino se arrivo in brasile con il per un discorso globale io credo io credo sia importantissima la politica e la politica internazionale è importantissima io gli farei le sanzioni subito a bolsonaro sanzioni internazionali subito perché tu stai a mettere a rischio il mondo si arriverà a questo si arriverà vedrai che si arriverà con la nostra generazione con la vostra con la mia ma con la nuova generazione in al potere politico quando sarà molto evidente seguendo il discorso che hai fatto tu prima la maggioranza dei brasiliani ha votato bolsonaro è stato ha detto devo bruciare l'amazzonia noi perché dobbiamo arrivare a dire così esatto siamo sicuri che hanno votato bolsonaro a tu sei un complottista si è scoperto ce n'abbiamo uno qua dentro al team comunque sia guarda io penso che ci sono dei modi di di fare pressione internazionale collettiva quando arrivi ad un ad un consenso perché io non penso che sia possibile vedere persone massacrate campi di concentramento penso che ci sia una responsabilità collettiva ma dobbiamo ma l'idea che tu dici io arrivo come missionario di qualsiasi causa che io penso sia importante e arrivo a cambiare in modo di come la vita penso che ci sia una 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 importanza una grande differenza ma quando io dissi a loro loro mi dissero guarda adesso noi non crediamo che tu possa fare lo sviluppo in risposta perché chi ti chiamerebbe mai una comunità ricca o una comunità povera io dissi probabilmente la comunità povera perché una comunità ricca che mi chiama milano non è che chiama me e e loro mi dissero esattamente e chi vive nelle comunità povere e io gli dissi persone perché io vengo da una comunità in abruzzo di 3.000 persone per noi chi vive chi sono le persone povere non educate persone vivono in comunità che no e loro mi disse è no le persone povere hanno i problemi se sono povere perché sono lontani dai centri commerciali aree di traffico di commercio non sono educate non sono capaci di essere impiegata e poi hanno soffrono di tutti i mali sociali che sono che nascono dalla povertà alcolismo droghe e famiglie distrutte e tu vuoi ascoltare loro ma sei pazzo siamo noi le persone con tecnologie persone educate è la nostra intelligenza che crea la possibilità di avere l'esperto che va a dire come piantare come coltivare che tipo di pesticida utilizza che cioè è il sistema dove l'università crea questi agenti di estensione extension agent americani sono famosi delle famose prime università americane erano create con i fondi governativi a condizione che avessero questa extension function una cioè la tutta la conoscenza all'interno dell'università l'università doveva creare delle persone che portavano la conoscenza ai contadini alle persone come si fanno le cose e quindi il modello di sviluppo è esperto cioè il come si dice l'accademia il body of knowledge l'accademia che dà agli esperti il necessario per portarlo alle persone che devono poi lavorare e seguire e quindi è conoscenza esperto cliente conoscenza freccetta esperto cliente e loro messo tu che cosa vuoi fare io dico io voglio fare una cosa con gli stessi tre elementi conoscenza invece di un esperto un facilitatore il cliente ma nel mio modello le freccette sono contrario cliente passione voglia di fare chiede al facilitatore aiuto per andare a cercare le conoscenze necessarie di trasformare la sua vita e il proprio talento e creare un modo di vivere e quella è la vera educazione e per me quella condurre fuori qualcosa un'esigenza sua che è basata tra l'altro sul concetto di car rogers il primo diciamo diciamo quello che ha inventato la psicologia della crescita e che ha inventato anche la psicologia basata sul cliente il cliente la persona più importante e se avete studiato quelli che hanno studiato la psicologia di car rogers il counseling di car rogers per car rogers la persona più importante fra i due non è il dottore ma è il paziente perché il paziente è la persona che ha la passione la volontà di crescere va dal terapista dicendo come mai non riesco a crescere e il ruolo del terapista non è di dire o soffri e si soffra molto ma pire di la pilloletta così non ci pensi più il compito del del terapista è di dire alla persona ma ti rendi conto che c'è un sacco di ostacoli davanti a te come dove non vedo nessun ostacolo ma come mai nelle prime 20 minuti ha usato la parola mia madre 15 volte ogni volta che usi la parola mia madre piangi come mai come mai tu sei un adulto e ancora piangi ogni volta che usi per dichiarare chi sei tua madre e ogni volta ti emozioni perché e allora la persona comincia ad aprirsi e capisce che ha degli ostacoli culturali addirittura ricordate che ci portiamo dietro non solo i genitori non i bisnonni ci sono dei dei psicoterapisti francesi che ne conosco uno che quando vai da lui mette un pezzo di carta sul muro e ti fa andare indietro cinque generazioni ti fa chiamare tutti i parenti dire racconta chi erano perché ci portiamo aspetti della personalità che si rivelano guarda e noi ci portiamo addosso dei pesi culturali di generazioni quando ti metti li ascolti shut up and listen cosa cosa ascolti di solito quali sono le esigenze più frequenti tra le persone che vai ad aiutare la sofferenza il mondo la sofferenza perché tu vedi persone che hanno dei 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 talenti stravolgenti delle passioni enormi e non riescono a viverci e allora si prostituiscono fanno dei lavori che odiano e quindi la cosa più meravigliosa quando tu sai che ogni persona adulta e sana vuol diventare il meglio di se stessa allora ogni comunità diventa la scatola di cioccolatini e ogni persona di fronte a te ti affascina quando noi addestriamo gli agevolatori di impresa gli enterprise facilitators ma quando io lavoro con un cliente ma lui sta parlando e io io sto già vedendo la bellezza se soltanto questa persona potesse realizzare se stessa per questo la cosa che mi ha affascinato del vostro programma è che voi intervistate persone che hanno fatto quel percorso e voi lo siete anche cioè voi avete fatto un percorso di perso di scelta di crescita personale che è importantissimo farlo vedere ed è affascinante vedere persone che hanno questa scintilla nell'occhio stanno facendo quello che amano fare per me e dovrebbe essere addirittura il vostro programma deve essere trasmesso nelle scuole facciamo ragazzi facciamo deve essere fatto vedere si è contagiato che perché si dice i buddhisti dicono che tu puoi diventare illuminato in lighted soltanto alla presenza del maestro non deve dire niente il maestro entra e tu vedi chi è come si comporta un maestro perché non abbiamo esempi e io quando quello che io faccio adesso viene dalla mia meditazione faccio per anni ho fatto meditazione e in meditazione dopo il periodo terribile a 27 anni ho cominciato a meditare e io ho fatto due anni dove praticamente io mi sono psico analizzato ho fatto meditazione invece di andare da uno psichiatra perché ho lasciato sì sì e in meditazione e al più profondo pensa che io io ero arrivato appunto tale che mi sedevo vedevo l'alba e vedevo il tramonto e passava così e mi sono trovato di tutta la notte tutto il giorno ma tutto il giorno proprio a caspita roba seria e mi ricordo che nel momento in cui di di il momento in cui sono andato di più all'interno di di me stesso è uscito fuori che cosa volevo fare volevo diventare l'uomo che io avessi che io avrei voluto incontrare quando io ero perso e dove l'ha imparata la meditazione con su da sei arrivato in sud africa era un gruppo di di ragazzi di trentenni quarantenni e io senti per la prima volta li senti parlare mi invitarono una sera e era semplici era tm era però affascinante e sembra una stupidaggine ti sei ti siedi ti siedi mi avevano dato il mantra un minimo di di preparazione poi ti siedi ti rendi conto che boom quando ti guardi dentro scopri cose scopri l'universo e non lo sapevamo che praticava la nostra stessa meditazione e infatti tra le domande che io provo ad appuntarmi prima delle puntate che non fai mai perché no è un va de me comunque poi non seguo mai perché ci piace questo format che il dialogo segue il suo percorso naturalmente visto che l'hai tirata fuori una domanda dicevo ma senti ma come fai a essere con tutto rispetto così intraprendente così vitale e seducente e continuare ad esserlo per tanti anni così perché come detto tu nel ted io sembro giovane cioè è quello cioè è una routine se fai quello che ami fare praticamente non sei immortale e poi la cosa bellissima è che continui 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 a a b cioè immagina la situazione io sono una persona che io so che io ho addestrato direttamente un 150 enterprise facility in 17 paesi al mondo loro sono diventati bravissimi loro hanno addestrato noi abbiamo calcolato un 400 enterprise facilitators in 17 paesi al mondo che hanno aiutato a creare un 55 mila imprese con la tua company senza mai dare una lira non una lira nessuno mai soldi soldi sono pericolosissimi sono tutte nazioni cosiddette sottosviluppate sottosviluppate via di sviluppo in via di sviluppo gli stati uniti quindi è giusto stati uniti canada scozia di tutto galles bangladesh nepal messico strano in italia adesso cominceremo anche in italia adesso quest'anno faremo un primo progetto pilota si può dire non lo possiamo annunciare ancora dov'è però ci terrà informate al riguardo se volete se volete se volete studiarlo un po come funziona sarebbe divertentissimo bene io ho studiato un po cioè più o meno hai questo concetto della trinità del management è quella che cerchi la trinità del management però fammi raccontare la storia di come stavamo parlando dell'australia di come mi hanno invitato il governo australiano quando quando io in sudafrica mi sono reso conto che mi sono reso conto che i miei professori sudafricani veramente non credevano i miei professori sudafricani mi hanno detto guarda noi non crediamo nella teoria che tu arrivi dappertutto al mondo e dappertutto al mondo trovi persone appassionate che vogliono migliorare la loro vita secondo me le persone povere non sono così tu devi arrivare gli devi dire cosa fare magari dietro non sanno neanche verbalizzare il loro non sanno non sanno che cosa vogliono esatto non sanno e e allora io lasciai il sudafrica andai in australia dove ho conosciuto marta tra l'altro ma lasciai sudafrica andai in australia venne intervistato da due università perché volevo trasferire il mio dottorato non volevo arrivare in australia senza una università trasferire il dottorato e una due tutte e due le università del western australia dissero se vuoi venire ti diamo ti accettiamo a fare lo stesso lavoro con un professore diventò particolarmente per me molto interessante perché io mi stavo cercando i libri per farmi un perché i professori non mi potevano aiutare una teoria talmente certo disruptive come si dice come è capito disruptive e quindi io mi stavo cercando un curriculum e avevo già una lista di libri che per me erano molto importanti i libri di le persone che credevano nella risposta quindi si parla di psicologia soprattutto e come si lavora in risposta e trovai questo professore che aveva i libri già quindi poi lui diventò lui diventò un carissimo mentore lui mi disse non credo nella tua teoria ma dimmi che cosa posso fare per aiutarti a dimostrare che io che io sia che io otto bellissimo e lui è diventato anche io con i miei dipendenti lui è diventato un mentore incredibile un mentore incredibile e lui mi accettò e io cominciai a fare questa tesi di dottorato senza che io lo sapessi mi fece ottenere una borsa di studio che per me era mamma mia fantascienza e quindi cominciai a scrivere questa tesi che hanno era questa nel 1979 avevo 29 anni avevo fatto sei anni sette anni in vari paesi africani due anni in sudafrica distrutto da diciamo lasciare l'italia stato un periodo molto molto difficile per me la meditazione essere diventare consapevole di che cosa veramente volessi fare e poi trasferito in australia comincio a scrivere questo ed era difficilissimo io cercavo di spiegare questi mi guardavo dopo due secondi addormentati e allora con un po di ho detto al mio professore senti mi dai la possibilità di fare un progetto pilota e lui mi disse come un progetto pilota che vuoi fare dico senti ti devo dimostrare cosa vuol dire lavorare in risposta perché nessuno mi capisce e lui dice sì se tu vuoi fare un case study per la tua te lo facciamo fare quanto tempo vuoi dico voglio almeno un paio di mesi per fare un progetto pilota in modo che finalmente ti farò capire anche a te professore che cosa voglio fare e dice hai già un'idea di così è un'idea perché ho conosciuto una una ragazza australiana al mercato c'era un mercato nel paesino di fremento e lei ogni sabato e domenica veniva e aveva un bancone dove vendeva cose di pelle che l'aveva fatto e erano le cose di pelle stai venendo dall'italia dove ecco questa è la roba medievale dell'oscuro delle dark ages questa faceva le cinte faceva i sandali e le diceva per carità non li comprare con l'accetta perché si per carità non li comprare perché vanno a pezzi in due settimane questa solo per i turisti che non tornano più anche una passione enorme per questo lavoro di pelle però cosa una senza nessunissima arte proprio una cosa pazzesca a che lei mi aveva presentato a aveva un altro amico anche lui molto appassionato stesse schifezze e però ogni sabato ogni domenica lì con questa passione e siccome io da ragazzo in italia avevo fatto qualche borse di pelle basata su roba che avevo visto di bizza cose divertenti ma hippie sai un periodo diverso e quindi quelle con le frange le borse con le frange allora avevo sempre questa affinità per il lavoro con la pelle fece amicizia con questi due ragazzi e quando il professore mi disse si puoi fare un case study i chiesi a questi ragazzi ma voi vorreste imparare a fare le scarpe fatte bene e lo dice ma magari ma qui in australia non esiste una cultura della delle scarpe fatte a mano non l'abbiamo mai visto come si fanno le scarpe ma vorreste se vi trovo qualcuno vorreste imparare certo dice però sai qui gli unici che lavorano le scarpe sono i calzolaici i ciabattini che aggiustano le scarpe sono tutti quanti i greci jugoslavi una ragazza australiana della devono pagare per quattro anni per fare l'apprendista dentro il negozio la moglie gli mena la ragazza australiana 15 non abbiamo mai trovato nessuno che ti va a impiegare un ragazzo e poi ti insegnano a riparare le scarpe non a farlo allora come mi dà il permesso del professore vado a parlare con tutti questi italiani greci jugoslavi dicendo chi è quello ci deve essere uno qui che fa le scarpe ortopediche come fanno quelli che hanno i piedi deformi chi gli fa le scarpe a che marito guarda c'è un maestro uno bravissimo però all'ospedale militare c'è quelli che ritornano dalle guerre c'è all'ospedale militare c'è questa persona e io vado vado all'ospedale militare vado giù nel come qui sotto e già gli arti e artificiali appesi e tutto entro lì e vado a trovare quest'uomo e lui è un siciliano 66enne che faceva le scarpe fatte a mano da quando aveva 14 anni in sicilia era l'apprendista dello zio prima della guerra della seconda guerra mondiale e lui mi racconta mi fa vedere io gli dico senti dino a ma tu vorresti insegnare no no il governo mi manda questi apprendisti vanno sempre vogliono sempre fumare vanno fuori no no mi hanno mandato un sacco di apprendisti no dico ma come mai c'è 66 anni sei ancora qui dice perché a 65 anni sono andato in pensione che questo è il governo questo è un ospedale governativo non hanno trovato nessuno per rimpiazzarmi mi hanno chiamato adesso vengo qui due giorni a settimana e il resto lavoro a casa dico senti dino e se lo facessimo all'italiana tu sei il maestro e io ti propongo apprendisti ma tu li scegli a se lo facciamo all'italiana sì tu mi proponi se mi piacciono io allora io vado a parlare in questi due ragazzi loro portano altri tre amici dai 25 ai 40 anni addirittura uno di loro insegnava lavoro di pelle ai ragazzi disoccupati dei di una scuola porto questi cinque ragazzi australiani in macchina mia andiamo in periferia a casa di dino latino e come entriamo dino stava facendo un paio di scarpe da donna stiletto con i tacchi alti così di pelle verde per una donna una signora che aveva un piede una taglia più piccolo dell'altro aveva il matrimonio della figlia voleva le scarpe di pelle verde per il vestito e di non gli sta facendo delle scarpe come questi australiani entrano nel garage gli cascano gli occhi perché immagino non hanno mai visto in vita loro come si fanno come si fanno i tacchiaspilli a mano i tacchiaspilli di pelle quindi entra e diventano come le paperelle intorno alla papera non lo lasciano più per un'ora toccano tutto è è uno di loro dice senti dino io ma tu puoi fare anche gli stivali certo che so fare facevo gli stivali per le ss quando ero prigioniero ad auschwitz no no lui era prigioniero di guerra a buchenwald e lui aveva scelto di lavorare invece di andare in campo di prigionia l'hanno messo a lavorare a fare le scarpe e hanno scoperto che lui faceva gli stivali e allora tutti gli ufficiali della ss andavano da dino a farsi fare gli stivali quelli neri lucidi e gli davano i buoni del mangiare invece dei soldi gli davano i buoni del mangiare lui viveva con una famiglia di tedesca e era la famiglia più ricca perché lui arrivava la sera con tutti questi buoni del mangiare lo hanno adottato i tedeschi lo hanno adottato gli hanno fatto sposare la figlia informalmente e quando sono arrivati gli americani l'hanno nascosto sotto il pavimento non lo volevano far mandare via capito bravissimo comunque sia parentesi questi ragazzi australiani questo ragazzo australiano dice sì io volevo farmi un paio di stivali però non sapevo come allora mi sono cucito uno stivale sulla gamba l'ho cucito a mano ed era bellissimo ma non usciva e allora ha dovuto tagliare questo stivale e dino li guarda fa venite venite mia moglie ha fatto i cannoli allora siamo a mezzanotte cannoli siciliani il caffè e di non riguarda fa mi piacete vi insegno gratuitamente due notti e la settimana due ore a notte vi insegno queste ragazze australiani di come come gratuitamente lui dice io non ho mai trovato apprendisti persone con la passione e allora lo dico noi noi ti vogliamo pagare almeno la benzina dopo questi ragazzi disoccupati 5 dollari l'uno 25 dollari alla settimana a dare a dino perché si vergognavano quelli insegnasse gratuitamente io vado dal professore dico allora mi senti mi serve un locale mi serve la trefasi mi serve e loro lui va al comune mi porta al comune dicendo stiamo facendo un progetto pilota per la formazione per aiutare i ragazzi disoccupati allora il comune ci dà una stanza ci dà la cia ci attacca la trifasio ci mette il vetro alle finestre una grande stanza e mi dà 900 un salario per fare la ricerca di 900 dollari io vado da dino con 900 dollari dicendo che possiamo che cosa possiamo comprare con 900 dollari lui fa una finishing machine macchine macchina da cucire compriamo un po di forme cominciamo e era di una bellezza assurda perché questi si era come dare un bicchier d'acqua a uno che esce dal deserto la passione di imparare a fare le cose il mio professore veniva con me con la scusa di pulire andavamo la notte io lui professore dio andavamo a pulire per terra per osservare cosa succedeva dino gli faceva vedere una cosa questi per due giorni praticavano in un anno facevano le scarpe ortopediche in un anno ci vogliono quattro anni per imparare dino con un sorriso da così e così e mio professore fa senti ma è questo dico rispondi alla passione dice ma senti ernesto dobbiamo dobbiamo scriverlo allora abbiamo fatto un un articolo per il giornale accademico dove lui mi ha aiutato con l'inglese tutto abbiamo fatto un paio di fotografie abbiamo scritto su questo progetto conferenza nazionale sulla l'artigianato e l'arte in australia il mio professore mi dice vai alla conferenza presenta questo questo la presento alla conferenza e mi arrivano una lettera dal governo federale dicendo che vogliamo che tu diventi il direttore di questa agenzia per aiutare i nuovi artisti artigiani appena arrivati in australia e per tre anni mi hanno portato via dall'università in questo palazzo megalitico a nord sydney di fronte all'opera house ed ero il primo mai sentito che uno studente gli danno un visto per lavorare per il governo federale australiano tre anni lì mio professore mi dice ernesto in tre anni con marta che mi aiutava abbiamo fatto 4.000 contratti professionali per artisti artigiani se guardate la musica del film the navigator la muse del film del navigator è scritta da davout tabrisi davout tabrisi vendeva puliva il pesce al mercato del di sydney però lui veniva dal conservatorio di teheran ed era un violinista e un musicista molto bravo che non trovava lavoro come musicista e noi gli abbiamo fatto fare la audition per andare a scrivere la musica di un film lui dal mercato del pesce a diventare quindi 4.000 contratti in tre anni però non basta la passione no cioè nel senso perché anche adesso sono tante parole tante tante tanto movimento attorno a questa parola l'idea di di intercettare la nostra passione fare una professione anche tu stesso no dici che per poi farla diventare un business ci vogliono di successo ci vuole anche altro certo la passione è il è il il carburante ma se non c'è il motore col carburante non ci fa niente però se è il motore senza senza carburante che ci fai 15 vogliono tutte e due ci vuole passione e tecnica e la tecnica sono due tipi di tecnica c'è la tecnica di quello che sa fare le scarpe e c'è la tecnica di come si gestisce un negozio che fa scarpe un'attività che fa scarpe e io non posso insegnare a fare le scarpe però posso assolutamente spiegare a quello che sa fare le scarpe come si va da essere solo a fare le scarpe ad avere un'attività che sa fare le scarpe le sa vendere sa bagare soldi e queste tre cose sono praticamente quello che ho imparato a fare quando quello stesso professore dopo tre anni che lavoravo a Sydney venne da me ci siamo rincontrati mi ha detto senti Ernesto non ho mai dimenticato quello che abbiamo fatto insieme quel laboratorio di cinque ragazzi è diventato la prima cooperativa di lavoro nell'astralia occidentale ha formato 20 persone è durata dieci anni con questa cooperativa e ha creato cinque aziende dove ragazzi hanno imparato a fare scarpe commercialmente e lui mi ha detto Ernesto il tuo sogno era di farlo in una comunità dove creiamo un agevolatore d'impresa un enterprise facilitator che è a disposizione di chiunque abbia la passione di fare un qualche cosa per migliorare se stesso quindi io con il mio professore tornai nell'australia occidentale e gli dissi ricordati però Peter lui si chiamava Peter Newman è ancora vivo, è ancora nel board, tra l'altro voi siete una, noi siamo una non per profit, noi siamo una 501c3 americana e disse al mio professore ricordati Peter che io non voglio arrivare non invitato quindi tu devi trovare una comunità che ha difficoltà però non so come si possa fare una cosa del genere, lui mi metto guarda Ernesto tu sei parte dell'università quando un qualcuno verrà all'università, stai facendo un dottorato di ricerca con una scholarship quando una comunità verrà da noi a chiederci aiuto gli diremo che abbiamo questo pazzo di italiano che ha una teoria molto particolare e vediamo se ti invitano e dopo tre mesi che ero tornato a Perth una comunità australiana molto remota che si chiama Esperance Esperance guarda sulla mappa è a 700 chilometri dalla capitale Perth ed è sul golfo The Great Australian Bight era molto isolata, 7 ore dalla capitale, 4 ore dalla comunità più vicina ad est, 4 ore dalla comunità nord e 9 ore dalla comunità ad est ecco Esperance la vedete sulla mappa lì e molto molto isolata, di fronte ad Esperance ci sono, vedi dov'è? di fronte ad Esperance, dietro andando da Esperance verso il sud Australia ci sono 900 chilometri di strada praticamente senza nessuna cittadina ed è uno dei posti più belli del mondo e di fronte ad Esperance ci sono 140 isole tutte disabitate, un arcipelago, eccole le vedi? E lì in questo paesino che si chiama Esperance avevano tagliato la pesca del tonno e avevano costretto, c'erano 140, c'erano 140 barche, scusa, c'erano 45 barche da tonno e cosa fecero? il governo del western Australia cercava di evitare che si pescasse il tonno ad Esperance e avevano convinto 40 delle barche a spostarsi o a vendere la licenza a quelli del sud Australia e aveva questa operazione aveva creato una terribile crisi economica perché hanno perso 400 posti di lavoro in una comunità di 10.000 persone l'agricoltura non stava andando bene, Esperance era andata in una crisi, una spirale negativa, terribile avevano 35% di disoccupazione e avevano, la cosa pazzesca era questa, che avevano il livello di suicidi giovanili più alti da Australia i ragazzi, soprattutto uomini da 18 a 25 anni, la seconda causa di morte erano i suicidi, quindi è una cosa molto molto seria e in quella situazione avevano invitato e io arrivai ad Esperance, era per me il sogno della mia vita, invitato da una comunità ed invece di arrivare da esperto dicendo ho la soluzione, sono arrivato a una comunità dicendo chi avete che è appassionato e che vuole fare qualche cosa che possiamo aiutare e logicamente ci fu tutta la leadership della comunità che mi disse ma sei pazzo, noi non abbiamo nessuno che, il sindaco mi disse ma qui nessuno ha mezzo cervello ma stai scherzando poi dice ma come ti permetti, il governo ci ha distrutto, il governo ci deve aiutare e invece io dissi ma avete qualcuno col quale io possa parlare, nessuno conosceva nessuno che fosse appassionato e intelligente e andai a parlare con quelli dell'ufficio della disoccupazione che davano gli assegni ai disoccupati e organizzarono un incontro, il direttore organizzava un incontro e il primo incontro con un po' di disoccupati lì tra di loro c'era questa persona 55enne che aveva questa, originalmente era un Maori della Nuova Zelanda ed era lui il direttore di una fabbrica di pesce, di come si dice processing fish, di preparazione, lavorazione del pesce e questa lavorazione del pesce aveva chiuso 120 persone per strada quindi 400 avevano perso posto sulle barche, 120 avevano, un disastro lui era il direttore, la fabbrica è chiusa, ha chiuso e lui ha detto che me ne importa mi vendo la mia bellissima villa, me ne vado aperto, trovo un altro lavoro la villa appena l'economia è crollata, il valore delle case è crollato non solo non la poteva vendere ma doveva dare i soldi e continuare a pagare alla banca perché non aveva finito di pagare il mutuo e quindi poi ha divorziato con la moglie, ha perso la casa, la moglie si è presa la casa e quando l'ho conosciuto era quest'uomo distrutto che aveva contemplato, aveva pensato a suicidarsi anche lui viveva in una casetta con un affitto governativo che lo aiutava un po', disoccupato però lui era diventato direttore di quella fabbrica perché la sua esperienza era fare il pesce affumicato salmone affumicato allora lui mi raccontò la storia e mi ha detto guarda io ho provato, ho creato anche un affumicatore l'ho messo nel garage, il comune mi ha chiuso, è venuto l'ispettore comunale e mi ha chiuso e quindi adesso sono disoccupato, sono disperato e anche io ho detto vuoi che ti aiuto? e lui mi ha guardato e dice ma tu chi sei? anche io gli ho raccontato che cosa, gli ho detto guarda sto facendo questa è la mia passione questa tesi di dottorato, secondo me ci sono moltissime persone in questa comunità come te però non mi credono, nessuno mi crede, nessuno mi conosce facciamo un accordo, un patto fra me e te, io provo ad aiutare te e se io ti aiuto, non so se ci riuscirò, ma se io ti aiutassi poi tu potresti aiutare me, dici come? potresti raccontare che cosa ti è successo a te perché se una persona del posto ha avuto successo a fare qualche cosa e racconta la storia probabilmente a te e lui mi disse assolutamente e dice se tu mi aiuti io mi faccio sparare per te io non capì come mai aveva usato questa metafora di farsi sparare poi ho capito perché lui aveva, la sua vita non valeva niente la sua vita non valeva niente 50, 40, 48 anni, 49 anni, completamente finito e allora dico fammi vedere quello che fai mi porta lì, apre il garage, mi fa assaggiare questo pesce affumicato questo salmone affumicato, il miglior salmone affumicato al mondo dico ma chi sei? dice sono quarta generazione io pensavo di trovare gli apprendisti invece ho trovato il maestro trovo il maestro e ho detto senti ma a chi lo vendi? dico lo vendo qui quando io affumi quel pesce l'odore va in giro andava adesso non me lo fanno fare ma quando venivano tutti a comprare da me ma quanto lo vendevi? lo vendeva a una stupidaggine dico ma questo è il miglior dico ma questo deve essere venduto nei ristoranti Michelin Star 5 Stelle e dice ma io non ho i soldi neanche per chiamare la capitale dico ma io vivo là se io ti trovo degli appuntamenti con dei ristoranti puoi trovare un passaggio e venire si si non ti preoccupare se tu mi trovi un appuntamento io ho degli amici camionisti a Lima e faccio qualche cosa ma vengo io arrivai a casa Marta stupefatta che cacchio stai facendo perché io vado da andare a parlare con l'università di questi concetti al pesciamolo allora io comincio che vado da un amico Nunzio che è il Nunzio che è il siciliano al ristorante dico Nunzio dammi i nomi dei ristoranti più famosi della città mi fa la lista che è Nunzio me lo sono perso? Nunzio era un amico di un ristorante italiano un tuo amico? un amico italiano italiano vado da lui tu quanti amici hai più o meno? qualche milione no perché mi sembra un po' quello anche ebbene il facilitatore il facilitatore dove fare le working io mi ufficio era il caffè il caffè di Nunzio io andavo quando sono tornato quando sono tornato da Sydney io ti ho detto ci abbiamo messo tre mesi per avere il un invito da una comunità perché dobbiamo aspettare che una comunità andasse all'università e quindi per tre mesi perché non potevamo fare allora che cosa facevo? io andavo mi sedevo al caffè e aspettavo e aspettavo cosa succede? che si era sparsa la voce siccome io avevo la reputazione di quello che aveva creato in quel paesino il progetto delle scarpe quindi le persone mi conoscevano già dicendo ah tu sei quello delle scarpe poi ci venivano questi che facevano le scarpe e venivano a prendere il caffè con me c'era sempre ci divertivamo insomma proprio il caffè del paese e allora cosa succedeva? che io stavo lì quando io stavo lì da solo venivano delle persone dicendo ma tu sei quello che ha aiutato loro? ti volevo aiuti me cioè c'era sempre questo discorso che io avevo questa passione per le persone e se avevo la possibilità di fare una telefonata per presentarlo qualcuno lo facevo cioè facevo sempre questa facilitazione avevo imparato di smettere di iniziare i progetti miei e mettermi a disposizione dell'intelligenza e della passione degli altri Adam Grant lo definirebbe un connector giver giver ma un connector quelli lì che proprio sono un hub di contatti e si prodigano proprio a mettere in contatto le persone giuste questo psicologo americano psicologo Adam Grant che ha scritto questo libro che si chiama Give and Take analizzando proprio questo che hai detto adesso cioè il fatto che ci si divide un po' in due senza giudizi moralistici però tu sei sicuramente tra i giver ma ti rendi conto che è come immagina che tu decidi che sei tu che deve far avanzare questa barca e allora tu remi e il tuo progetto la tua barca e tu remi questa barca o c'è la persona che ha la passione che rema e tu fai sposti appena un pochettino il timone e la barca va in una direzione diversa bella per cui tu puoi avere un'influenza due parole al momento giusto alla persona giusta gli cambia la vita è molto molto è una cosa quasi trascendentale è una cosa quasi Joseph Campbell Joseph Campbell nel famoso Il viaggio dell'eroe nel viaggio dell'eroe dice che quando l'eroe ha deciso qual è la sua strada e la sua strada è veramente quella della sua anima e lascia tutto quello che conosce per passare la soglia dal conosciuto allo sconosciuto e fa il primo passo nell'ignoto lasciando tutto quello che conosce alle spalle appena entra in questo territorio nuovo che è pieno di pericoli è pieno di ansietà perché adesso devi diventare uomo fino adesso sei stato un bambino e appena tu passi la soglia comincia il viaggio dell'eroe appena cominci il viaggio Magical Helpers Appear la magia ti aiuta se si è vero gli aiutanti magici appaiono e io sono un aiutante magico e non voglio essere cioè il mio viaggio è stato quello di dire beh io voglio avventurarmi in questa strada e trovai Peter Newman che mi fu il mio aiutante magico dicendo non ci credo ma dimmi cosa posso fare in modo che tu possa dimostrarmi e quindi io so il valore di una persona che ti aiuta l'altra metafora bellissima è questa e poi torniamo alla storia sì sì è bellissima è questa l'intervallo l'intervallo è un'altra metafora l'intervallo è la persona che dice tu sei come il boa constrictor che è un serpente fortissimo però se il boa non può mettere la coda sotto una roccia una radice molto forte gira al vuoto chi ti regge la coda? la cosa bella è sempre voi due voi vi reggete la coda una specie di kamasutra al nostro diventa una specie cioè la cosa interessante è questa cioè chi è che ti dà certo che ti dice infatti è vero moltissime persone dicono a me Ernesto tu mi hai dato mi hai dato il permesso di essere mi hai dato il permesso di sognare cioè anche l'affermazione di dire bellissimo quello che vuoi fare io ho avuto persone dicendo come è bellissimo tutti mi odiano vogliono fare questa cosa i miei genitori mia moglie mi arrivò mi arrivò questa lettra di questa persona dicendo Ernesto ho visto il tuo programma e ho sentito quello che dicevi e ho detto a mia moglie voglio tornare al conservatorio a finire di studiare violino e tutti mi hanno detto che ero pazzo l'ho fatto adesso lavoro lavoro per un'orchestra e lo devo a te ma io ho una domanda prima che durante questo intervallo intervallo ma ti è mai capitato sicuramente sì credo di sì che qualcuno arrivasse e diceva ho bisogno di aiuto ho questa passione voglio fare questo ma in realtà se la stava un po' raccontando a raccontare cioè quella non è la sua vera passione tu in quel caso magari lo intuisci pure cosa fai lo lasci e lo aiuti a sbagliare o cos'è che succede? ma è bellissimo perché la cosa che facciamo noi parliamo alla persona noi come se assolutamente credessimo a tutto quello che ci dice ok però noi non chiamiamo mai clienti è proibito e quindi loro non chiamano non chiamano mai quelli che non chiamano mai noi non sappiamo cosa è successo ok è proibito chiamare i clienti quindi cosa succede che ti vengono a parlare gli dici cosa fare e loro vanno via alcuni il giorno dopo ti richiamano dicendo quando è che ti posso vedere o ho trovato una persona di sono una persona di prodotto ho trovato una persona un commerciale troverei far conoscere perché gli puoi raccontare che abbiamo bisogno di una persona di finanza perché il commerciale mi dice che non abbiamo bisogno di una persona di finanza ma io ho paura potessi incontrarla benissimo allora tornano insieme e troviamo una persona di finanza perché loro non la conoscono gli do cinque nomi chiamo tutti gli do cinque nomi di commerciali loro questi due vanno a trovare cinque commerciali gli piace la signora Elisabetta e decidono che sono disposti a spendere cento euro al mese per avere la signora Elisabetta che gli aiuta a fare il prezzo corretto del loro prodotto capito altri scompaiono però scompaiono ma sai noi abbiamo avuto una abbiamo ricevuto un invito per andare in in Queensland e la persona che ci ha invitato ha detto quando verrete c'è il fan più grande di Ernesto che vi vuole invitare a cena a che gli abbiamo detto chi è il fan più grande di Ernesto una persona che non mi aveva mai parlato siamo andati a cena lui ha sposato una senatrice australiana ci ha invitato in un ristorante bellissimo abbiamo avuto a cena e mi ha raccontato la storia mi ha ascoltato ad una conferenza ha avuto una crisi è andata a casa ha completamente cambiato quello che stava facendo la struttura di quello che stava facendo è un multimilionario australiano cosa hai detto in quella conferenza dopo nove dicela anche a noi sai quanti anni dopo mi hai conosciuto venti anni dopo tutta la sua vita ispirata dal mio lavoro che non l'avevo mai conosciuto quindi non lo sai non sai mai non ci girano un po' le palle quando sai che ci sono delle persone che hanno ottenuto dei risultati pazzeschi e non te l'hanno mai detto ma immagina grazie a te ma immagina immaginate un pochettino andare a letto la notte sapendo che il tuo sistema ha cambiato la vita di persone che non conosci è di una bellezza assurda non è non è neanche concepibile io vado io vado io vado se non te lo dicono è difficile lo so ma lo so ma cosa succede che io so perché quando vado a visitare le comunità dove noi abbiamo i nostri agevolatori di impresa io quando chiamo Marta da Luganda Tanzania Marta dice mamma mia Ernesto è fatto di nuovo o sta fuma perché io sono a dei livelli di di che ti posso dire di bellezza scopro delle cose le testimonianze ma io sono ridotto in lacrime insomma di una bellezza assurda questa donna africana che mi viene da me dice mi prende le mani così mi dice io vedi che io adesso quanto sono grassa io guarda io ho messo peso io mangio adesso prima di sentire te io non potevo comprare il sale non potevo comprare il sapone e adesso e adesso io posso posso tirare su mia nipote perché la figlia gli è morta di H.O.I.V. con un con un quindi ce l'hai il bisogno un po' di avere dei feedback capito ma il feedback il feedback è automatico il feedback ce l'hai ce l'hai è un po' come quando scrivi un libro non so se voi avete scritto un libro avete pubblicato due fino a quando fino a quando non scrivi un libro pensi che un libro è un po' una masturbazione intellettuale ma chi diavolo possa far leggere sta roba e lo scrivi per te e non sai neanche che cos'è un libro e solo quando l'hai pubblicato il libro che ti rendi conto che il libro è un messaggio una bottiglia non sai mai chi lo leggerà e ci vogliono certe volte tu devi avere il coraggio delle tue opinioni e devi devi dire io ho sentito tante persone intelligenti sentendo tutte queste persone ho utilizzato tutto il loro gli anni la loro vita le loro esperienze per estrapolare queste conoscenze mie questa pratica tu l'hai scritto un libro ma non c'è in italiano è solo in inglese è solo in inglese how to start a business ignite come si pronuncia ignite ignite your life cioè come far partire un business incendiare la tua vita sì ma è l'altro il ripples from the zambesi tra l'altro non c'è non c'è neanche la parola italiana per ripples quindi non si può neanche tradurre basta ripples in italiano non c'è quindi non si può neanche in questo libro c'è una delle ripples ripples c'è anche una le increspature diciamo ma è anche una criptovaluta ripples ripples però i ripples è la storia del sasso nello stagno che crea ah ok sì queste onde concentriche negli stagni cioè la metafora la metafora inglese è when you do something creates a ripple the ripple vuol dire che anche un'azione minima butti un sassolino nello stagno ti da ti crea può creare veramente conseguenti degli effetti a cascata gli effetti a cascata è la teoria della farfalla che sbattica sì più o meno infatti io volevo allora torniamo adesso abbiamo finito la parentesi torniamo al il salmone torniamo al salmone tra l'altro bravissimo tra un po' mi sta venendo voglia se sto salmone affumicato tra un po' che ce ne andiamo il salmone affumicato e io chiamo dieci ristoranti prendo appuntamenti e questi dieci ristoranti tutti mi danno vogliono vedere questo questa persona li porto e dieci ristoranti dieci ordini ordini immaginate ristoranti ma lui è andato là con i campioni di salmone li ha fatti assaggiare ma sì ma gli chef sono impazziti lui entra questo è un padre eterno il pesce affumicato entra questi ristoranti questi chef sai i bottoni d'oro lo tagliano lo assaggiano è certo dicono e poi quanto insomma bravissimo lui come dal punto di vista di preparazione tecnica veramente molto bravo dieci ristoranti dieci ordini immaginate i dieci ristoranti più importanti di milano prendiamo dieci ordini e li porto in banca dicendo abbiamo i dieci ordini di questi dieci ristoranti i banchieri guardano gli ordini dicendo questi questi ristoranti certo certo io sono cioè quanti soldi ti servono duemila dollari solo duemila dollari perché duemila dollari perché dobbiamo portare dobbiamo affittare un locale commerciale dove trasportare la fumicatrice dal garage in un posto dove lui può operare certo impiega tre persone cominciamo a dare fare gli ordini per quei ristoranti e trovo a casa del console italiano in piscina bevendo un bicchiere di prosecco c'è un australiano che ha venduto una sua attività per 26 milioni di dollari deve rinvestirli rapidamente mi dice conosci qualche impresa interessante sì lo porto nel paesino lui mette un milione di dollari dietro cioè tu passi dalle cene col console al pesciarolo fallito suicida perché guarda non non cambia la vita è così le persone cioè alto e basso come in alto come un cielo così in terra chiunque ti può dare qualcosa o può fare qualcosa ma sì ma tra l'altro mi fa più mi fa più pena quello che ha venduto quell'attività da 26 perché non ha più niente a fare no perché non era la stessa qualità di persona del mio pesciarolo pesciarolo disoccupato comunque sia questa attività allora lui dico al si chiama Maurice il Maori si chiama Maurice vado da lui gli dico senti sei contento di quello che ho fatto in questi tre mesi lui fa Ernesto hai cambiato la vita dico senti ti ricordi ho bisogno di aiuto da parte tua gli fa certo che cosa possiamo fare dico perché non facciamo un lancio ufficiale della tua attività lui ha detto sì ok invita un'ottantina di persone della comunità il direttore del giornale e racconta la storia e dice a tutti questo è quello che ho fatto quello che sto facendo questi sono i ristoranti è tutto però senza Ernesto non sarei stato in grado di farlo Ernesto se avete una passione se avete un sogno non parlate con lui perché la sua passione è dimostrare che esiste intelligenza nella nostra comunità e lì per lì questi pescatori prima uno poi l'altro erano rimasti solo cinque pescatori di tonno vi vendono a parlare erano i più giovani erano i più poveri si parla di ragazzi di vent'anni ventitré ventiquattro anni senza con pochissimi mezzi però avevano un po' di licenza insieme potevano pescare tutte e cinque insieme 120 tonnellate di tonno l'anno e vi vendono a parlare e con loro loro avevano la passione per il prodotto e gli chiesi se loro volevano parlare con qualcuno erano disposti loro pagarono per una persona che era un commerciale glielo trovai gli portai un commerciale dalla capitale parlarono con lui e il commerciale disse ma voi avete mai fatto vedere il vostro tonno ai giapponesi e lui allora disse no noi non abbiamo mai visto un giapponese e allora io gli trovai uno chef giapponese c'era soltanto un ristorante sushi nella capitale dopo mi fai vedere la rubrica del tuo cellulare la posso downloadare ma si fanno cioè tu hai un chef giapponese no si fanno lì per lì noi non abbiamo mai una non ci prepariamo mai perché non sappiamo mai quale sono ma questo network di conoscenze che hai è figlio della tua e no va va studia cioè va lì e cerca apposta quando arriva la domanda lo cerca apposta disturba la gente cioè c'è un call calling lo chiami lo chiami chiami qualcuno dicendo senti chi conosci che e poi dopo due tre amici ti dicono guarda c'è un ristorante hanno aperto un ristorante sushi entri al ristorante sushi cioè hai un cuoco che parla inglese ma inglese che giorno è libero quanto vuoi per venire a passare un giorno con noi 140 dollari pochi anni chiami tutti diciamo 140 dollari trovi il collegio tecnico della cittadina di Esperance che si è innamorato del mio progetto al quale vado dal direttore dicendo devo organizzare una classe devo portare uno chef a parlare con questi cinque pescatori non ho una lira come faccio lui fa possiamo creare una finta classe di preparazione del pesce alla giapponese però servono otto studenti dico sono cinque pescatori due fidanzate ed io sono otto allora dice va bene allora ti trovo 150 dollari come tutore per lo chef dico però il bigliettaro sono 450 dollari allora lui dice lui chiama la linea aerea gli dà un biglietto gratuito perché lui è il collegio tecnico arriva lo chef giapponese nel paesino a 700 km e gli danno un tonnetto che il governo australiano ha detto i tonni di meno 60 kg non possono andare in Giappone perché i giapponesi non li vogliono e lui invece la persona commerciale che io ho portato ha detto la prima regola commerciale è metti il prodotto di fronte al possibile del compratore nessuno nessuno si deve permettere di definire i gusti qual è il mercato il mercato comanda non l'esperto è il mercato che comanda e allora gli diamo un tonnetto da 25 kg lui lo prepara dice sushi sashimi questi dicono no questo non è sono giapponese non ha fatto così però ha fatto l'equivalente di così giapponese dicendo sono giapponese questo è sushi questo è sashimi ma allora tu compreresti i nostri toni per il tuo ristorante dice sì quanto lo pagheresti loro hanno pagato i 60 centesimi al chilo per il miglior tono il blue fin la penna blu la penna blu e lui dice ti posso pagare soltanto 3 dollari 80 immagino uno che dice a te solo sei volte quello che stai guadagnando non essere solo sei volte tu sei un social network evoluto nel senso sei una vera piattaforma che mette in contatto le persone ma in maniera evoluta perché mentre i social network che abbiamo su questo cellulare e sui cellulari dipendenti di quasi tutti sono studiati apposta per rimanere attaccati alla piattaforma invece la piattaforma che sei tu che ti sei autocostruito ti sei autostrutturato è strutturata per non far rimanere attaccato nessuno se non nel momento in cui sente il bisogno di rientrare in contatto con la piattaforma e questo è molto evoluto in un mondo dove la maggior parte delle cose che facciamo le facciamo per creare dipendenze e quello che fai è veramente l'opposto ma è molto evoluto forse abbiamo più bisogno di cose del genere non c'è qualcuno che è dipendente da te come raccontavi prima di quel rapporto tra dipendente e codipendente perché ricordati che l'agevolatore di impresa poi se ne va non viene mai pagato dal cliente è sempre pagato da una terza parte ok quindi è la comunità è il municipio è il è il è il governo è la grande azienda che paga l'agevolatore la grande azienda che dice voglio fare qualcosa per la comunità e adesso quello che sto facendo compro gli uniformi per le scuole per i bambini in questo momento oppure sto facendo io lavoro ho lavorato per governi federali lavoro per grandissime imprese perché loro hanno il problema che diventano sempre o patronizing o paternalistic tipo facci qualche nome si può qualche nome di azienda per la quale sta lavorando adesso abbiamo lavorato per Enel abbiamo siamo in rapporti molto in in America Latina con Enel con Semex la seconda la seconda azienda mondiale produttrice di cemento sono sono aziende che dicono Ernesto le comunità ti amano ci odiano come mai vi odiano perché siete un gruppo di bastardi che scavate un buco ve ne andate e lasciate la comunità con problemi ambientali ancora più povera se state in una comunità per 20-30 anni siete parte della comunità perché non aiutate le persone locali a sviluppare le loro imprese in modo che quando te ne vai lasci dietro 400-500 imprese nel quel paesino di Esperance quei 5 pescatori in 9 mesi vendevano il tonno a 15 dollari al chilo a Tokyo e quindi 140 tonnellate 120 tonnellate a 15 dollari al chilo è molto diverso da fare la fame e loro hanno fu uno schiaffo in faccia al governo australiano perché il direttore del dipartimento della pesca ci aveva detto che noi non avremmo mai venduto un solo tonno in Giappone e noi abbiamo venduto tutto facendo con una fisibilità uno studio di fattibilità di 2000 dollari con 2000 dollari noi abbiamo dimostrato che il Giappone prototipazione e quindi appena fatto questo sono diventato le persone a Esperance mi seguivano per strada 60 clienti 27 imprese in 24 mesi e allora il mio professore ha detto Ernesto conferenza mi ha fatto una conferenza a Esperance 250 burocrati politici di tutta l'Australia sono venuti si sono seduti lì e io non ho parlato ho fatto parlare il pescatore Mori e gli hanno raccontato voi ci avevate detto di no che non lo potevamo fare Ernesto ci ha detto chi è che il vostro commerciale chi è la vostra persona di finanza andiamo a vedere com'è il mercato prima di dire sì o no 50 allevatori si sono messi insieme mi telefonò dopo che uscì sul giornale del giornale con la storia di quello che avevo fatto con i pescatori tra l'altro io non parlo mai il giornalista è sempre il cliente quindi i clienti hanno detto abbiamo fatto questa feasibility che ci costava 2000 dollari abbiamo portato un giapponese uno chef giapponese per dirci se il nostro tonno era vendibile e ci ha detto di sì contro tutto quello che la burocrazia gli avesse detto e questo il giorno dopo un allevatore di Esperance mi chiamò dicendo questo che hanno fatto i pescatori per noi è umiliante non lavoriamo mai insieme non aggiungiamo mai valore al nostro prodotto e la cosa che quello che abbiamo visto fare e non facciamo mai il nostro marketing ci potesse aiutare ho detto quanti siete 50 io ero in unione con le 50 persone più ricche della zona e loro mi hanno detto Ernesto noi spariamo a un milione di pecore l'anno con una cartuccia 22 in testa e le seppelliamo perché dopo due anni non hanno più abbastanza lana da giustificare e dargli da mangiare e siccome non c'è un mercato per la carne di pecora noi ci può aiutare ha introdotto gli arrosticini io ho detto la brava abruzzese io ho detto guarda sei sicuro che non c'è valore e allora hanno scoperto che per 5 dollari potevano far mandare le pecore al mattatoio per 5 dollari l'una gli ridavano la carne arrosticini o quello che volevano fare poi gli davano la pelle e la lana la lana si poteva togliere tutta la lana utilizzando questo chemical questo modo di depilare e la pelle non aveva un mercato fino a quando noi abbiamo cominciato a far conciare la pelle di pecora dicendo non ha mercato perché la pelle non è perfetta noi abbiamo detto neanche il legno di pino è perfetto però i nodi del legno di pino usiamolo come bellezza quindi facciamo vedere che una vera pelle di pecora c'ha ancora sai i forasacchi c'ha qualche ha qualche imperfezione senza il nostro lavoro gli agboots non esisterebbero perché noi furono noi fumo i primi a conciare la pelle degli agboots che è una pellaccia però ti ricordi? l'agboots viene dalla nostra dalle nostre noi abbiamo portato un conciatore io mi beccai un conciatore lo portai in paese dicendo si può conciare? si si può conciare come viene? viene così ah e allora ci facciamo qualche cosa che non sia di lusso e gli agboots vengono utilizzate da quelli del surf i primi ad utilizzare gli agboots furono i ragazzi giovanissimi che avevano i piedi gelati uscendo dal surf e si mettevano gli agboots con la pelle di pecora dentro mia mamma quando è venuta quando abitavo a Bruxelles è venuta per il mio compleanno io compio gli anni il 30 luglio è venuta da Milano dove c'è un caldo troce il 30 luglio come si sa arriva a Bruxelles fa Davide io non riesco a uscire di casa cioè è inverno qua perché c'erano sai 12 13 14 arriva anche gli hai comprato gli agboots no alla mia compagna gli fa senti ma non hai qualcosa ma Miranda guarda c'è solo sta roba qua non so se vuoi uscire sì voglio uscire con gli agboots ed è uscita a luglio 30 luglio a Bruxelles con gli agboots bella calda i piedi caldi la mamma di un surfista anche anche loro le usano modello figa sta roba del upcycling puro 250 250 persone di queste 250 burocrati e uomini politici immediatamente il governo dice puoi insegnare altre persone a fare quello che hai fatto tu in qualche anno avevamo 36 enterprise facilitators in 36 comunità rurali facevamo mille nuove attività commerciali l'anno e mille espansioni a costi di circa 2700 dollari per posto di lavoro creato rispetto al governo federale che pagava dai 25 a 35 mila dollari per un posto di lavoro creato noi eravamo li abbiamo questo modello poi è stato adottato 140 agevolatori di impresa dal governo federale australiano hanno creato un programma che si chiamava business advisors bruttissime la parola italiana è bara ma si chiama business advisors in rural Australia e poi ministro agricoltura della vittoria venne con l'aereo governativo arrivò all'aeroporto di esperanz e mi disse non voglio parlare con te voglio parlare con i tuoi pescatori e ho detto vabbè ci vediamo alla fine della giornata alla fine della giornata mi ha detto tu vieni con me come consulente dico non posso perché sono consulente del ministro qui no ci ho già parlato e tu sei libero per due mesi e quindi andai in vittoria in vittoria a creare rural enterprise vittoria poi il primo facilitatore in nuova zelanda il governo della nuova zelanda adottò il modello 78 facilitatori poi un professore americano mi ha scoperto mi ha detto senti vieni vuoi venire a lavorare con noi in america per sei mesi dico guarda voglio scrivere un libro quello ripples quindi vengo all'università e quando dopo sei mesi all'università ho scritto il libro sono tornato a lavorare con il vice primo ministro del premier del western australia e nel 95 fu invitato a tornare in in america da un'altra università per sei mesi andammo per sei mesi lasciando macchine e mobili in storage in australia e non sono più tornato in australia perché quando gli americani mi hanno detto rimani e mi hanno dato uno di quei visti o one che sarebbe visti per merito straordinario che mi ha dato la possibilità di avere una carta verde e la cosa commovente fu che all'aeroporto col visto questo o one c'era mia figlia a quei tempi aveva 13 anni e gli abbiamo dato il passaporto e lui ha aperto il passaporto invece di guardare a me ha guardato mia figlia ha detto il tuo padre deve essere una persona molto importante perché ho solo visto uno nella mia vita ho solo visto uno di questi o one tutta la mia vita quindi dal 95 sei in california dove esattamente? sono a sacramento che sarebbe la capitale a 90 miglia da san francisco tra napa valley e lake tahoe è un posto niente di speciale come città ma ci siamo all'inizio sembrava non non pensavamo che saremmo rimasti molto e invece è un tipo di il posto sta avendo un boom perché moltissimi da silicon valley si stanno appena diventi un pochettino più anziano e vuoi creare una famiglia non ti puoi permettere di vivere in san francisco ho letto adesso si possono permettere di vivere veramente in pochi perché è diventato un posto inaccessibile ho letto che addirittura ci sono tanti manager che si muovono che vengono a sacramento o che dormono fuori in camper fuori da google apple gente che guadagna bene si è molto costoso e quindi in sacramento sta avendo un boom e facciamo parte di un comprensorio che ha adesso in 100 km di distanza c'hai stanford berkeley hai le università importanti e quindi stai bene adesso siamo anche se il nostro lavoro è molto internazionale però abbiamo lavorato in 14 quando nel 2019 la settimana prima dell'inizio della pandemia delta mi mandò una lettera scritta a mano tu viaggerai sempre gratis con noi no no in questa lettera c'era una targhettina una targhettina di argentata da attaccare e la lettera scritta a mano ha detto ti vogliamo ringraziare ti danno sempre del tuo Ernesto ti vogliamo ringraziare loro hanno 60 avevano 60 milioni di viaggiatori l'anno io ero uno di un gruppo di 250 persone che nel 2019 avevo viaggiato tutti i continenti dove viaggia in un anno tutti i continenti dove viaggia delta quindi ero in questo gruppetto che ti ha detto e quindi mi hanno riconosciuto ho questa targhetta che quando entro in aereo di solito la persona viene da me dicendo you are the big fish io ho 4 milioni di miglia è come il film up in the air con George Clooney che a un certo punto quando lui raggiunge 10 milioni di miglia gli si siede a fianco il mega capo della flotta con i baffoni era il suo premio guarda io non credo che sia possibile io mi sono fatto 4 milioni quasi 4 milioni di miglia adesso però io l'ho fatto con la gavetta nel senso io lavoravo io viaggiavo dietro agli aerei per diciamo 90 80% della mia vita io ho viaggiato in economy class adesso siccome mi danno l'upgrade automatico viaggio però mi sono fatto veramente la gavetta quelli che viaggiano in prima classe perché sono pagati allora i punti però farsi 4 milioni come l'ho fatto io infatti è diverso è diverso è un po' diverso senti ma come si fa a viaggiare così tanto mantenendo lucidità cioè fai qualcosa legato all'alimentazione dei trucchi rispetto alla maniera in cui dormi se suoni stavo dicendo perché io qua sono in presenza di un ragazzo che è 10 anni più giovane di me che ogni volta dice ma viaggiamo no scherzo pure io soffro molto il viaggio quando dobbiamo andare soprattutto in un altro continente ci mettiamo un po' a tornare in bordo quando viaggi due settimane al mese tre settimane al mese diventi un pochettino come i piloti d'aereo una deformazione un po' professionale sai come comportarti sai soprattutto cosa non fare diccelo devi stare attentissimo a bere alcol in aereo cioè bevi tanto quindi devi stare molto attento perché ti disidrata disidrata è una cosa che è talmente talmente subdola la cosa poi devi assolutamente dormire in aereo e quindi io sempre mi porto qualcosa per dormire io mi prendo sempre la pillolina per dormire e la prendo appena arrivo in in aereo poi dei rituali un po' strani vai vai no ma dici io porto io ho adesso non tanto perché sono più in in prima classe ma io ho i tappi per le orecchie quelli fatti apposta per me ah su misura addirittura su misura che quelli che e infatti io metto quelli poi ho la Bose la cuffia quella antirumore e ci metto la musica mia in modo da potermi isolare poi c'ho la mascherina quella comoda c'ho la cosa da mettermi dentro il naso guarda è un rituale un po' se che metti degli olli tipo la la rinoleina una cosa del genere per tenere le mucose quindi faccio questa cosa così al punto tale che mi ricordo che dopo un viaggio arrivai a Sydney un viaggio 14 ore in aereo il pilota venne da me dicendo mi scuso per questi due bambini accanto a voi che vi hanno dico io non li ho sentiti e lui ma guardateci come dico avevo avevo pavarotti tutta la notte avevo perché quando prendi la pillolina poi la musica è lì come più che altro per non farti sentire gli urli dei bambini che ti saltano addosso ma apparentemente avevo due bambini indiani con la nonna la mamma e il papà io ero in prima fila e questi tutta la notte hanno fatto un casino pazzesco e il pilota sconcertato si è venuto a scusare dico ma io non li ho sentiti quindi devi imparare a difenderti dormire in aereo è importantissimo limitarsi a un drink ti fa io mi faccio un buon gin e tonic appena arrivo in aereo con la pilloletta boom poi sì poi l'altra cosa è che degli ultimi quattro anni io sono vegano puro nel senso io sono andato completamente vegano però non vegano dal punto di vista filosofico ancora c'è le scarpe di pelle quindi mia figlia dice non dire che sei vegano perché tu quindi non sono animalista in quel senso però dal punto di vista di dieta sono molto stretto e mi sono reso conto che il mangiare ha un'influenza pazzesca su come sulla nostra vita però io essendo abruzzese io avrò massacrato un migliaio di maiali in vita mia io guarda avrò fatto una strage io mi sento cioè io ho mangiato tutto di tutto come un grande buon gustaglio per sempre fino a quando stranamente incontrai questo uomo d'affari che mi disse mi fai uno studio di fattibilità voglio comprare una catena di ristoranti vegani in america dico io queste cose non le faccio anche lui mi dice ti do 15.000 dollari al mese per sei mesi not bad anche io ho detto aspetta faccio una telefonata ho chiamato due persone ho chiamato mia figlia che è vegana e ho chiamato una ragazza bravissima che si occupa di lei aveva una boutique diciamo dal punto di vista alimentare un'esperta una studiosa e chiamai loro due creai questo piccolo team e loro fecero uno studio di tutti i ristoranti vegani americani new york erano avevano guardato new york los angeles san francisco che era diciamo gli hub più importanti e quando lui venne finalmente in america dopo sei mesi lo portammo a vedere i ristoranti vegani più importanti di san francisco e poi un resort vegano fuori los angeles un resort vegano per le movie stars sort vegano non so le movie stars americane che devono perdere vogliono perdere peso per dimagrire vanno lì e fanno una settimana marce forzate quella che ha fatto quella bellissima che ha fatto la superwoman la amazon quella una delle nelle film gal gadot wonder woman wonder woman una una che era che faceva la madre di lei nel film lei era lì durante quando lui questo uomo d'affari era lì perché fanno una settimana per ok detox rimettersi rimettersi e tu anche l'hai fatta anche tu cosa è successo che io a san francisco per una settimana ho vissuto con lui andando a mangiare provare tutti questi ristoranti e la prima mattina fu ridicolo perché io ero arrivato all'albergo il giorno prima avevo fatto amicizia con il cameriere mi ero fatto le uova al bacon una magnata pazzesca e il giorno dopo c'è lui al tavolo e lui si fa la granola con latte di di che cosa di cocco mandorle e lui poi il cameriere schifatissimo lo guarda guarda me e io gli faccio lo stesso anche il cameriere mamma mia oddio e mi porta questa cosa e io non potevo andare a pranzo con lui insieme in un ristorante vegano come facevo anche io ho detto vabbè la sera mi farò qualche salametto in albergo se non che mattina questa roba poi a pranzo nei ristoranti di una bontà assurda queste cose meravigliose e poi io vedevo che io fuori uscivo dal ristorante a ore di pranzo prendevo il tassi tornavo lui camminava per andare in albergo e lo guardo e dico ma questo come cacchio fa avere questa energia faccio una settimana con lui mi sento completa torno a casa e dico a Marta mi vergognavo vorrei provare un'altra settimana e questo erano quattro anni fa e devo dire che è stato un dono per me straordinario ho 70 anni l'energia che io che ho adesso devo dire toccando legno il legno vero sì questo è un pubblicissimo devo dire che è veramente importantissimo cosa usi cereali integrali come le proteine da dove le prendi tutti chiedono queste proteine ma io veramente io non ho fatto nessuno studio particolare mangio pochissimi veramente mangio mangio pochissima pasta poco pane poco cereali qui in Italia purtroppo non c'è molto poi ti bastonano cioè in Italia veramente sei offensivo entri in un ristorante dicendo sono vegano fuori come si permette noi siamo la premiata il premiato ristorante noi ci specializziamo in prosciutto fritto come è successo a me ti dicono ah non ti preoccupare ti do il pollo benissimo quello a malta quello che meraviglia comunque sia ti bastonano e poi no la cosa più umiliante in Italia è questa ah benissimo nessun problema chiamo il manager allora sei al tavolo un tavolo di lavoro importante tutti seduti lì arriva chi è il signore vegano tutto il ristorante fermo tutti a guardare poi arriva noi potremmo farle una cosa particolare io dico guardi quanti contorni avete dice che vuol dire vedi tutti questi piatti vedi questi contorni mi porti questo contorno questo contorno a questo contorno ah così fai tutti tra l'altro la cucina italiana era la cucina povera legumi la famosa cucina povera italiana che è quella che tutti dicono la dieta mediterranea poi è diventata dieta mediterranea se non mangi il prosciutto fritto ogni giorno perché miseria se tu mangi ogni giorno come ad abboffarti non è una dieta mediterranea la dieta mediterranea erano i contadini abruzzesi che la notte la sera si facevano il pane lupana che era il pane io sono pugliese la cucina pugliese è quasi tutta vegana poi adesso c'è tanta pasta eccetera il problema è quello è il fatto che con la ricchezza il mangiare è diventato uno status c'è stato il pendolo dal sacrificio a mangiare poco poi mangiavi la domenica si mangiava la carne invece adesso mamma mia dovunque vai vedi quando li vedevi noi venivamo dall'america dove c'era un'obesità pazzesca si arrivava in Italia meno male adesso comincia a vedere obesi anche in Italia quindi meditazione dieta vegana e fai anche qualche attività sportiva oltre a mi vergogna oltre a fare il facilitatore mi vergogna a dirlo è meglio che non lo dico il badminton no 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 mi vergogna a dirlo perché l'ho appena cominciato quindi non dovrei dirlo perché molte persone in questo momento cominceranno già a spegnere a non guardare più perché sembra è talmente yoga purtroppo ci sei cascato anche tu dopo il veganesimo per forza infatti c'è una volta che inizi a fare meditazione ma non ti preoccupare ma è stata colpa di mia moglie no ma smetterai tanto si smette tutti allora io secondo me lo yoga è la teoria della felicità è come la teoria nel sassetto nella scarpa la felicità dello yoga è quando lo smetti ah beh come andare a messa dopo è come andare cioè il momento in cui questo ora però c'è devo dire che per voi per voi che avete a quale piace la meditazione quello che ho scoperto è una cosa straordinariamente bella è che yoga è la meditazione del corpo perché da fuori sembra che non succede niente e tu stai bestemmiando perché il dolore è cioè io pensavo di avere le gambe forti perché cammino molto cammino molto e la prima lezione di yoga questa mi dice ok fai un mezzo squat e devi fare così mezzo squat e mantieni la posizione per dieci minuti e tu dici vabbè una stupidaggine sì provaci provaci un po' è come la meditazione la meditazione le persone dicono ma tu non fai niente sì sì prova un attimo siediti e non pensare e non pensare ed è una sfida per il corpo straordinario poi scopri i muscoli che non pensavi di avere però è molto bella questa cosa mi piace molto perché è la meditazione del corpo non sappiamo che cosa stiamo facendo non conosciamo il nostro corpo non sappiamo neanche come sederci non sappiamo neanche più e il momento in cui tu ti rendi conto e hai un buon istruttore ti rendi conto che tutto le azioni tra un movimento e l'altro sono importanti come la posa cioè tu pensi che sia importante fare quelle pose in yoga la verità è che tutto quello che fai come fa la transizione da un movimento all'altro è importante come la la posa finale quindi è molto bello è molto meditativo quindi vediamo un pochettino cosa succede ma altrimenti no io cammino ogni giorno molto ho un addestratore che è il mio cane il mio cane si chiama Monti Montgomery e Monti è il mio psichiatra è il mio lui viene Montemagno alle 4 viene io sto mi viene viene con la zampa dicendo vorrei andare quindi fai anche la pet therapy quindi faccio la pet therapy a Sacramento che clima c'è bellissimo più secco di San Francisco a San Francisco piove sempre c'è la nebbia no è caldo è molto più caldo di San Francisco non c'è nebbia e abbiamo un tempo non c'è mai la gelatura abbiamo i fiori tutto l'anno e noi abbiamo una casa con 21 redwoods 21 alberi intorno alla casa quindi è come una piccola foresta wow intorno alla casa quanto state dal mare dall'oceano quanto ci vuole purtroppo questo è il problema noi andiamo a noi piace molto Carmel noi andiamo dove c'era Clint Eastwood era sindaco è sindaco andiamo a Carmel ci siamo andati quest'anno era l'unico rifugio era andare a Carmel vicino a Pebble Beach per quelli che giocano a golf io non ho mai giocato a golf non mi interessa però andiamo al mare sono due ore e mezzo per andare a Carmel potremmo andare più vicino però il mare californiano è freddo come quello sudafricano ma la California cioè ultimamente arrivano delle notizie contrastanti sulla California ci sono tanti personaggi che se ne sono andati perché la trovano soprattutto la zona di Los Angeles la trovano un po' degradata ci sono tanti homeless anche a San Francisco c'è questo problema tante tasse hanno diventato uno stato le tasse ci sono state sempre però i vantaggi burocrazia i vantaggi culturali culturali erano enormi quindi è come un mondo diverso la California è molto molto aperta molto democratica e è molto ospitale la cosa divertente della io Marta ed io abbiamo passato sette anni nel Midwest quindi vivevamo sia in Sud Dakota che poi in Minnesota abbiamo vissuto a Minneapolis per sei anni quindi sette anni che coraggio è freddo e la differenza fra vivere nel nord e vivere in California a giorno e notte eccetto e la cosa divertente Beverly il famoso telefilm parla proprio del personaggio che veniva dal Minnesota e andava a Los Angeles e quindi è stata molto bella l'esperienza perché la caratteristica culturale dei californiani è come sono aperti e quindi la prima volta che arrivi sono arrivato in California e il primo giorno che vado ad un bar il proprietario del bar a prendere un caffè e il proprietario del caffè mi dice chi sei? che cosa fai qua? figo e io gli dico sono qui vogliamo vieni con me diamo dietro apre questi case mi dà tutti i biglietti da visita di agenti immobiliari assicurazione poi mi dice lui è un ex poliziotto quindi mi dice guarda quando devi cercare una casa dimmi che strada e ti dico se va bene questo in che città eri? Sacramento Sacramento quindi ma poi i californiani sono incredibili cioè you are italian sei italiano dico sì madonna mio cognato è spagnolo oddio è un cane io ho un gatto è l'ultimo estroverso non puoi guarda in California se tu dici Silicon Valley Silicon Valley è basata sulle persone che non ti conosco che dicono ma ma tu fai quello ma conosci Mark ma poi hanno sempre questo atteggiamento over come si dice overacting io mi ricordo ero conosciato in California tantissimi anni fa Venice Beach c'era questo posto dove si faceva l'aperitivo Sky Bar quindi andavi su avevo letto sulla guida che era un bel posto ero con la mia fidanzata dell'epoca andiamo e sentivo come un rumore in sottofondo più mi avvicinavo a questo bar un rumore in sottofondo quasi da riserva naturale sentivo ma da qualche parte qua ci deve essere un laghetto con degli animali degli uccelli dei volatili che fanno che figa poi arrivo all'edificio dove c'era lo Sky Bar prendo l'ascensore e gradualmente sentivo questo rumore sempre più forte si apre l'ascensore era l'aperitivo degli americani sembrava un rumore di uno zoo di gente che gridava con un entusiasmo una roba pazzesca pazzesca noi pensiamo noi italiani di essere gesticolare ma vai in California sai quanti californiani quanti californiani ci vogliono a cambiare una lampadina lo sai quanti 20 uno la cambia e 19 share the experience condividono l'esperienza guarda sono sono simpatici molto sono superficiali è un pochettino come le persone di grandi città ci vediamo domani non li vedi più però però devo dire che sono stati per noi molto ospitali e abbiamo fatto degli amici però devo dire che gli amici più cari e quelli più profondi sono stati proprio gli amici che abbiamo fatto in Minnesota nel Midwest le persone del Midwest sono come gli abruzzesi o come i norvegesi sono molto riservati molto chiusi ma quando ti danno accesso quando ti diventano amici ti sono amici per la vita un po' anche come gli australiani gli australiani sono durissimi non c'è nessuna razza al mondo che è più assolutamente brutale non ci so nessuno al mondo ti dice veramente tua moglie che cosa pensa di te che australiana sta ridendo ti avverto di questa cosa gli australiani ti dicono sempre cosa pensano di te e l'australiano è l'unico che ti dice ma anche i russi sono un po' così e i russi sono i russi sono ma guarda forse un russo e un australiano ci deve essere perché guarda sono veramente ho sentito dei russi sono veramente brutali però il momento che tu diventi un amico di un australiano ti chiamano your mate il momento che tu sei un mate sei un mate per la vita quindi veramente culture la cultura californiana devo dire molto aperta molto superficiale però è una vita molto molto bella molto facile nel senso che è una vita andare a vivere al centro di Los Angeles nostra figlia vive in un loft nella zona artistica del centro della città di Los Angeles con il covid se hai una tenda non puoi essere mosso quindi cosa succede che chiunque tutti vivono nella zona centrale di Los Angeles e ci sono accampamenti di una brutalità questo non lo sanno non se ne parla però si centro di Los Angeles ma ho sentito anche a Venice Beach proprio sul lungomare più famoso di tutta la California è diventato una tendopoli una tendopoli perché se hai una tenda non ti possono rimuovere quindi è diventato molto il covid è stato molto brutale per le grandi città con mortalità molto alta e poi avevamo anche una guerra culturale che Trump aveva anche incoraggiato un po' e adesso le cose sono molto molto si respira un'aria diversa molto diversa incredibile incredibile adesso sta già fatte delle cose importanti 100 milioni 100 milioni di vaccinati però c'è anche la cosa che è straordinaria 100 milioni infatti ho visto che a settembre in California ricominciano i festival rock 100 milioni di vaccinati in 100 giorni ha fatto Biden e adesso la guerra è andare a cercare quelli che non vogliono essere vaccinati quelli che sono i Trumpers quelli che sono dicendo di destra dicendo no non ci vacciniamo perché non è vero non è vero niente è una bufala e adesso ci sono addirittura lo stato di Ohio ha fatto ammesso la lotteria se fai il vaccino puoi vincere un milione di dollari beh ma tu sai che gli ebrei ortodossi c'era girava questo video che anche loro chissà come mai ma all'estrema destra ci si trova d'accordo non volevano vaccinarsi giuro cercatelo su internet se non ci credete il governo regalava una pizza una pizza e loro si vaccinavano quindi questa cosa ma comunque da noi c'è Odifreddi questo pensatore che non è che siamo sempre d'accordo con lui molto razionalista però lui dice vabbè ma se la gente non si vuole vaccinare da lì 100 euro 100 euro si vaccinano tutti non è un problema sai la brazzelletta di quello che aveva disarrotto l'orologio a Tel Aviv cercava un posto per ripararlo no vede guarda il camisera è scritto non capisco la lingua vede un negozio una vetrina con un orologio quelli del nonno sai quei negozi l'orologio a penne sì allora c'è l'orologio forse questo allora va dentro e dice vorrei ripare l'orologio si è rotto e lui lo guarda e dice ma noi non ripariamo l'orologio dice noi facciamo circoncisioni ok allora lui dice ma come mai avete l'orologio sulla vetrina e lui dice che cosa vorreste che noi mettessimo in casa ci dia un consiglio faccio di te che cosa vorreste se hai qualche idea ma invece cosa ne pensi di Elon Musk che lavora 80 ore di tutti questi personaggi che spingono o ispirano le persone a fare una vita veramente quasi e solamente esclusivamente dedicata al lavoro in maniera molto concentrata anche bella pazza attenzione Elon Musk ha detto you don't want to be me certo ma dice che lui ha Asperger's e lui dice che non è una persona normale l'ha messo l'altro giorno ha detto non è una persona normale comunque si lavora tanto adesso gli americani lavorano moltissimo gli americani lavorano moltissimo e non è vero che c'è questa si è sparso un pochettino il mito che va bene anche sbagliare nella vita rischiare fallire e che la differenza fra gli americani e gli italiani che se tu hai un fallimento imprenditoriale in Italia sei guardato come un fallito mentre in America se fallisci vuol dire che stai facendo qualche cosa l'importante è imparare e ricominciare però vi devo dire la verità io ho visto delle persone che hanno fallito due tre quattro volte uomini Silicon Valley di 40 50 anni e li guardi in faccia li guardi negli occhi e non c'è rimasto niente perché lavorano 14 ore al giorno per 4-5 anni lavorano come cani palliscono impresa ricominciano lavorano moltissimo l'americano fa una settimana di vacanza se la fa e anche in vacanza si porta il telefono e lavora per cui gli americani hanno un'etica straordinaria dal punto di vista del lavoro per loro il successo personale il successo del lavoro coincidono però devo dirvi che se se tu veramente stai facendo una cosa della quale tu sei appassionato non ti sembra neanche di stare lavorando nel senso che veramente se sei al punto che ti meravigli del fatto che le persone ti invitino ti paghino per essere te stesso e per essere con loro e per quindi io sono un pochettino colpevole anche di questa cosa è molto difficile per me fare una divisione perché praticamente io non faccio mai niente io capito le persone mi dicono ma tu ma stai addestrando io ieri sera dalle otto alle nove parlavo con un gruppo di imprenditori scozzesi per me non pagà ma niente per me che mi importa per me vai nel flusso cioè vai in se never flow per me il momento che ho una persona interessata per me è un complimento una persona che veramente vuoi sentire qualche cosa da me veramente e tutto è nato quel giorno che hai meditato tutto il giorno cos'è che cos'è che è accaduto dentro di te cos'è che hai sentito una voce no un facilitatore interspaziale no no quello che è successo interstiziale no quello che è successo è stato veramente particolare perché io vengo da una famiglia di medici e di dal 1720 primo farmacista dottori 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 mio nonno era un chirurgo di guerra che ha fatto la guerra in trincea operava senza anestesia faceva quello che doveva fare per salvare la vita delle persone quindi chirurgo medico chirurgo militare bravissimo dottore laureato in medicina nel 1907 con la medaglia al merito scolastico insomma era un mostro di capacità mio padre radiologo dottore appassionatissimo e io ci fu questo rigetto no basta basta lavorare con i malati basta non mi fate vedere sangue non mi fate vedere più vomito lasciatemi in pace e quindi avevo diciamo detto basta scienze politiche cominciavo avevo addirittura cominciato a studiare per la carriera diplomatica avevo amici diplomatici a Roma e poi quando ho avuto questa questa crisi e ho cominciato a militare ho scoperto che io sono interessato ad aiutare gli altri che io avevo rigettato dicendo no mai più nelle health non voglio più avere a che fare con la professione di una persona che aiuta altri e quando ho scoperto che invece questa era la mia natura mi sono detto ma porca miseria se c'è un dio ma perché me perché mi fa inventare questa questa professione che non esiste aiutare le persone a diventare meglio di se stesse il momento che ho avuto questa cosa mi sono era come era una solitudine pazzesca perché una professione quella professione non esisteva non esiste una professione di persona che dice io voglio aiutare te soltanto se tu vuoi essere aiutato a diventare il meglio che tu possa diventare e come hai fatto a tenere botta nel tempo cioè cos'è che ti ha aiutato l'amore no per la tua compagna no la prima persona al mondo che mi disse sì quello che dice ha senso io sono rimasto come senso anche lei è stata il tuo facilitatore lei praticamente è stata quella che ha detto ti tengo la coda e tu hai un sacco di potenza però se non hai un qualcuno che ti ti crede e dice vai dai quindi secondo me è stata lei perché lei veniva da una famiglia di un uomo di enorme successo il padre di Marta era il manager il più importante manager di miniere in Australia diventò il general manager dell'azienda più grande mineraria australiana dove le miniere in Australia sono importantissime e lui era diciamo quando conobbi Marta il padre lavorava nella penthouse del palazzo più importante e quindi lei è vissuta con un padre che è un uomo di grande successo quindi lei non ha mai avuto lei non ha mai avuto nessun remora dicendo vuoi farlo? farlo perché tra l'altro lei è stata educata così i genitori gli hanno detto qualsiasi cosa tu voglia fare tu puoi fare caspita vedi e lei ha detto sì voglio sposarmi uno che ha tre figlie di un altro matrimonio ancora non è divorziato è italiano in Australia voglio lui e quindi è stato veramente di un coraggio pazzesco ha sfidato i suoi genitori ma no sfidati perché lei i genitori non si facevano mai hanno detto ok è la tua responsabilità ma se tu ci credi ci crediamo anche noi e quindi avere ecco io certe volte basta avere una persona accanto che ti dice ok dove vi siete conosciuti yes you can dove vi siete conosciuti sì però anche con tutte le conseguenze perché non è che sono che è un letto di rosa io ho passato un anno un anno in Australia tra quando lavoravo per il governo federale a quando il mio professore mi ha detto rifacciamo io ho passato un anno dove io facevo le pulizie per casa Marta lavorava e io cucinavo quindi quello che voglio dire è che la passione viene dal latino passio che vuol dire soffrire la passione di Cristo è la sofferenza di Cristo in croce quindi quando io incontro una persona appassionata io sono assolutamente rispettoso la cosa è divertentissima è che qualche anno fa siamo tornati a Perth e abbiamo fatto una cena che abbiamo chiamato la cena dei milionari non noi Marta e io ma le persone che sono venute a cena erano imprenditori che io aiutai 30 anni fa 40 anni fa avranno offerto loro spero che cazzo allora questa cena di milionari erano tre coppie la cena la cena era facile la cosa divertente fu questa che questi erano ragazzi che avevano veramente soltanto un sogno quando mi incontrarono e durante la cena alla fine hanno raccontato la vita 30 anni di vita quello che hanno fatto alla fine il commento fu ma sai che noi abbiamo Ernesto fu così strano incontrarti perché noi eravamo questi school dropouts ragazzi che avevano lasciato le scuole sbandati sognatori un po' e dice abbiamo incontrato te dice questa persona sofisticata che viene da Roma che dall'italiano che sta facendo un dottorato di ricerca sul come e lui si è preso interesse e ha aiutato noi con le nostre idee e ci sembra abbiamo detto ma tu guarda la motivazione di questa persona la gente come caro come come un filantropista forse esatto e io li ho guardati a cena all'ibito e ho detto no io ammiravo voi ci fosse questo silenzio nella stanza come tu ammiravi sì voi eravate passione non adulterata voi eravate esattamente quello che io sapevo ogni essere umano può essere se vi siete liberati dai vostri condizionamenti vi siete buttati con passione a fare qualche cosa e io ho fatto un po' di timone a questa passione di rompere ma per abbassare un po' questo livello fighissimo che hai voluto regalarci sai che ci sono tante persone che fanno il tuo lavoro o qualcosa che gli assomiglia che hanno questo modello di business io ti aiuto sì però tu mi devi dare una quota della tua società delle royalties qualcosa e tu a questi australiani però non gliela hai chiesta come mai mai nessuno come mai nessuno perché il momento che tu chiedi ci sono delle professioni che non possono essere pagate nella nella economia pre romana ad esempio nella prima della legge romana ci sono delle professioni che non possono essere pagate perché nessuno ha abbastanza soldi per pagarti e quindi io io credo veramente che i nostri agevolatori di impresa sono pagati da uno stipendio fisso sono come dei pompieri come dire voglio i vigili del fuoco se non mi paghi non 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 ti non ti spengono l'incendio sono delle professioni che devono essere pagate dalla da una terza parte perché altrimenti hai cominci a vedere vengono due persone di fronte a me uno è un idiota però i genitori vogliono pagare il mio insegnamento e l'altro una persona con passione che non ha una lira devo fare una scelta io lavoro per quello che è un idiota pagato dai genitori non puntavo a te particolarmente però però l'inconscio potrebbe andare così cioè le mani potrebbero andare così no la faccia la pesce lessa quindi quello che volevo dire è che no è come un è come un è interessante questo è come un dottore è come il dottore come il mio nonno come il mio padre i quali facevano i dottori in un paesino poverissimo dove le persone non potevano pagarli e i miei antenati vivevano con i contadini del paese che per generazioni erano indebitati allora ogni cambio di stagione venivano con le primizie e venivano col cesto bello per generazioni perché sapevano che mio nonno mio bisnonno gli aveva salvato la vita addirittura mio nonno mio padre scrivevano la ricetta per andare per andare per andarle in farmacia a comprare il farmaco si dice la ricetta il ricettario scrivevano la ricetta gliela davano poi li guardavano in faccia sapevano che non avevano i soldi per andare a comprare e allora gli davano pure i soldi i miei antenati vivevano con la terra avevamo mille alberi di oliva avevamo la terra perché senza la terra e la casa la mia casa dove andiamo settimana prossima era una fabbrica di prodotti alimentari perché tutte queste cose che ci venivano portate le primizie i salami i polli andavano a finire in questa cantina enorme c'erano i posti dove fare la frutta secca infatti la cosa che a me piacerebbe scrivere un pochettino prima di morire la storia di quello che io so dai miei antenati perché la casa era questa casa con tre donne di servizio che non facevano altro che preparare il mangiare per noi abbiamo dentro casa un forno da pizza che veniva utilizzato per tutto il paese la parte sopra del paese perché quando il forno si accendeva tutti erano invitati a utilizzare il loro ad altino quindi questa famiglia da lì dal nostra che tra l'altro la cosa divertentissima è quando portiamo australiani americani e c'era mio padre che gli faceva vedere la casa poi mio padre diceva però noi non siamo del posto dice ah non siete del posto no noi siamo qui solo dal 1680 dice veniamo da 20 km di distanza che per i pugliesi tu capirai se tu sei lì almeno da 7-8 generazioni non sei non sei veramente pugliese ma senti ci sono due baci della morte che ho letto nella tua dottrina se è possibile così possiamo chiamarla mi hanno colpito uno è il planning e l'altro la solitudine cioè tu tu dici allora sono due cose che distruggono l'imprenditore pianificare troppo e stare da solo pianificare troppo è una cosa io cito Peter Drucker che forse è stato il più grande consulente aziendale della cultura moderna e Peter Drucker dice che una planning is actually incompatible with an entrepreneurial culture and economy planning la pianificazione è incompatibile con una cultura in un'economia imprenditoriale perché dice che il pianificatore ha a che fare con dati che devono essere ben stabiliti per poter proiettare invece l'imprenditore ha a che fare con l'innovazione l'innovazione è sempre nuova e quindi dice che tra l'altro dice che l'innovazione non viene mai con la tempesta ma con la brezza della la leggera brezza non te ne accorgi neanche che c'è stato un cambiamento fino a quando è troppo tardi quindi io dico agli imprenditori devi devi essere immediatamente capace di rispondere al mercato e di adattarti quello che dicono to pivot to cambiare e so che ad esempio voi avevate cominciato in una certa in un certo modo e cambiamo sempre ogni anno diciamo questo è un anno di transizione è il nostro mantra state facendo benissimo perché è l'unico l'unico momento dove essere molto molto reattivi per poter fare il pivot dicendo guarda che abbiamo fatto 20 episodi l'episodio che ha avuto il più successo è stato questo perché perché come io non sapevo non avrei mai immaginato che il mio TED il mio TED talk facesse quello che ha fatto 3 milioni 200 milioni sai che batti anche alcuni no 3 e 5 3 e 5 batti Tim Ferriss che è un guru in America a meno di te minchia capi abbiamo uno ragazzi qua al bazar non so perché è arrivato dici anche che ci stima no vi stimo moltissimo questo è un programma guarda dovrei adesso cos'è cos'è quello ci hai già detto voglio fare voglio fare un programma voglio fare il primo progetto pilota in Italia e vorrei farlo documentare da voi se voi siete interessati lo facciamo già dove devo firmare ve lo faccio documentare perché lo facciamo non troppo lontano da qui possibilmente e faremo un programma dove noi in modo confidenziale e gratuito aiuteremo persone locali a trasformare la loro passione in un modo di viverci perché noi siamo convinti che quando fai benissimo quello che ami fare hai anche bisogno di meno soldi sei meno distruttivo non hai bisogno di Lamborghini per dimostrare che sei che hai coglioni perché sei te stesso nel caso nel caso e se devi veramente avere una bella macchina compra quella che ho io Morgan una Morgan del 1951 altro che Lamborghini ma in America ce le avete queste macchine vintage sono figli beh ma la Morgan la Morgan è una macchina inglese macchina inglese che però è stata comprata da un gruppo italiano un gruppo industriale italiano che ha comprato la Morgan due anni fa dopo cento anni nella mano della famiglia Morgan si può vedere questa la Morgan che modello è? è una una Morgan del 1951 flat radiator un radiatore ma tu devi andare alle sei ci avevi un incontro adesso ci andiamo flat radiator wow cioè tu vai in giro per sacramento con questa no raga infatti no mandaci dei video no no guarda c'è un articolo molto divertente si chiama guarda un pochettino la dolce vita sirolli la dolce vita quella non è la mia guarda un po' sirolli la dolce vita Morgan guarda chi me l'ha pubblicato quell'articoletto Wall Street Journal living la dolce vita questa è la mia bellissima bellissima questa è la mia questa è la mia hai vinto tutto però questa l'ho rifatta ho spesso centinaia di ore io pure ho fatto una grandissima ho imparato moltissimo perché non capivo niente di motori e ero talmente innamorato ho trovato questa macchina in Australia l'ho comprata ed era la macchina del dealer della Morgan guarda le altre foto del dealer della Morgan chiacchietendi ragazzi ma si guarda le da impazzire i californiani poi impazziscono quando vediamo perché conoscono ma che belle foto anche che ti hanno fatto bellissime fichissime e quindi belle quindi io dico che puoi avere un hobby però non è bisogno di puoi comprare una cosa che costa poco te la aggiusti e la tieni per 30 anni ma dove hai imparato aggiustare youtube c'era in Australia no in Australia c'era un ragazzo un mio avevo insegnato a lui a fare l'aggevolatore d'impresa e lui conosceva questo restauratore restauratore inglese che viveva in Australia ed era bravissimo e lui mi fece portare questa macchina nel suo bellissimo capannone dove aveva gli attrezzi di tutto e di tutti e mi disse smontala tutti i barattoli a smontare è facile devo dire smontavo tutto e poi ho detto oddio la macchina ha persi abbiamo abbiamo tolto tutto abbiamo tolto il motore tutto e poi l'abbiamo abbiamo addirittura lavato con il il che rosene fino è rimasto abbiamo praticamente lasciato soltanto lo chassis e da lì abbiamo fatto questo lavoro poi logicamente il motore l'ha fatto il meccanico brava però io mi sono rifatto tutto l'interno l'ho rifatto di tutta la tutta la pelle che ho potuto fare io poi e poi un sacco di ore per veramente imparare a capire come funzionasse è un molto semplice una macchinetta sempre un motore a quattro cilindri però è stata una una cosa molto molto bella che è o come guida spirituale il libro da leggere ah il zen e la teramicicletta ah è lì che ti ha eh sì la guida spirituale perché ti dice che cosa fare quando sei nel pallone quando cominci a dare martellate certo certo c'è la famosa gumption trap la trappola della disperazione che ti eh all'improvviso se tu sei cominci a essere irrequieto e cominci a a essere frustrato devi smettere ti prendi un caffè ti devi eh perché altrimenti fai un danno quindi devi avere la disciplina e poi questo questo per me che ero degli anni sessanta quindi ero un hippie diciamo concettualmente ho imparato a capire che non esiste arte senza arte non puoi improvvisarti eh tutti nella nostra generazione noi nella nostra generazione eh io sono del 50 le avanguardie no nella nostra generazione noi pensavamo veramente che jimmy hendrix un giorno si era messo un sarà fatto un cannone particolare una canna particolare e col mancino ha cominciato a suonare come un dio non è vero niente lui era un un chitarrista da studio lui era un professionista della chitarra quindi noi non abbiamo mai capito che non esiste arte improvvisata ma ci sono non ci sono neanche imprenditori improvvisati e si avvicinano no un artista un imprenditore tra l'altro oggi gli artisti sono anche bravi imprenditori anzi quasi più imprenditori gli artisti degli quelli che hanno gli imprenditori sono anche un po' artisti no la cosa importante è che si capisca il lavoro nostro di agevolatori di impresa e di far capire che la solitudine è la morte dell'imprenditore perché perché da solo sei impotente come si trovano le persone come trovi l'amore della tua vita a parte telefonando a te che abbiamo capito che funziona di brutto no lo trovi come trovi l'amore della tua vita nel senso che non ci sono regole e la cosa più importante è essere autentici che tra l'altro devi essere vulnerabile la parola autentico tra l'altro scoperto di recente che viene dal greco e vuol dire la persona colpevole tu sei autentico vuol dire il colpevole tu devi essere autentico nel senso che devi accettare tutte le tue delle mancanze sei responsabile di tutto quindi il momento che tu sei autentico vuol dire sono colpevole sono non sono la persona quindi non cerco di nascondermi sono quindi questo essere autentico vuol dire vuol dire che hai sofferto talmente tanto che non te ne frega più niente cioè devi andare devi passare la soglia devi dire voglio vivere la mia vita come veramente cercando chi sono cercando di essere il meglio di quello che posso essere e vediamo se facendo quello che amo fare avrò la possibilità di vivere la cosa bellissima che io veramente ho un sacco di feedback anche da moltissimi italiani è questo quando fai meravigliosamente bene quello che tu ami fare diventi attraente e quindi nel momento che tu sei in una hai la tua attività commerciale fino a quando tu sei nell'area di passione di interesse sei attraente ma cosa succede che appena tu cominci a fare il commerciale o la parte finanziaria e invece di fare una cosa bene fai tre cose male sei un amatore sei un dilettante e i dilettanti non sono attraenti i dilettanti hanno diciamo i capelli gli anglosassini dicono i capelli in fiamme sono persone che corrono con i capelli infiammati incendiati e quindi non sono attraenti sono persone che sono catastrofiche sono dei catastrofi viventi e quindi nessuno ti vuol toccare perché mamma mia fai tutto male quindi la cosa importante è questa grandissima il momento in cui sei nella tua area di passione e competenza sei attraente allora cosa fai se tu hai il coraggio di essere questo allora attiri persone a te e il momento in cui tu dici a una persona io sono questo e voglio fare questo e trovi una persona che ti dice eccezionale posso aiutarti allora siete due adesso quindi immagina Wozniak che fa è un maniaco che crea questo sistema questo questo board che riesce a far parlare i computer interfacciare i computer con le persone e Steve Jobs che lo guarda dice madonna ma questo è genio ti posso aiutare Steve Wozniak dice ma battene io ma no no io lo voglio dare gratuitamente a tu ma che sei pazzo lo possiamo vendere ci possiamo fare un'attività il momento che immagina la relazione quando tu stai facendo meravigliosamente bene quello che devi fare al punto di sacrificare te stesso per dedicare una vita a quello che fai beh diventi però che razza di persona devi essere per fare una cosa del genere io penso che è all'età di 27 anni io ho avuto veramente un esaurimento nervoso io penso che sono stato entrato in un periodo di crisi molto profonda perché quando sono tipo tipo veramente il il bruco che diventa la farfalla perché nel bozzolo sei al buio appeso a testa in giù il corpo si sta liquefando non capisci più niente non sei più nessuno però se non hai il coraggio di stare lì dentro fino a quando senti di avere la forza e tra l'altro dicono che quando apri il se tu aprissi il bozzolo per far per fare per aiutare la farfalla l'ammazzeresti perché la farfalla nel bozzolo deve assolutamente fremere e battere cercare di battere le ali perché dicono che se non pompa il sangue nelle ali le ali non si sviluppano quindi quando tu vedi un bozzolo che trema non lo aprire perché vuol dire che ancora non ha la forza di aprirlo quindi devi lasciare questo questa povero animale a soffrire ancora al buio a testa in giù appeso non sapendo che diavolo sta succedendo gli devi dare il tempo di di fare il passo tutto questo è molto poco sexy adesso i comunicatori e i guru della formazione nel business ti dicono ma puoi fare tutto da solo ti basta un cellulare e fai viaggi per il mondo puoi vendere da solo in automatico con amazon non ti serve essere marketer da solo da solo è masturbazione per avere vita devi avere due dna che sono diversi il dna della donna e il dna dell'uomo non si capiranno mai se non decidono di to merge non hai di unirsi non hai la nuova vita in un'azienda commerciale hai tre dna il dna dell'inventore che ha visto un'opportunità di prodotto nuovo di servizio nuovo hai un commerciale che non ama il prodotto e servizio ama la gente e ama e ascolta quello di cui la gente ha bisogno e te lo dice e insieme decidete allora qual è la cosa migliore per aiutare la vita degli altri come posso modificare questo prodotto per aiutare se è pagato solo se aiuti altri ricorda se è pagato solo se tu aiuti altri a vivere gli aiuti a mangiare a intrattenersi gli aiuti dal punto di vista medico se tu non aiuti altri a vivere non sei pagato e poi c'è quindi hai la persona che ha la passione per il prodotto con la persona che ha passione per le persone che vive nel mercato e ascolta il feedback e poi questo talmente appassionato che come me lo farebbe gratis la persona il commerciale lo darebbe scontato perché il commerciale vuole che tutti usino questo prodotto viene la terza persona che è la persona di finanza che dice ragazzi un'attività economica che non guadagna si chiama hobby se voi volete viverci dovete fare in modo che quello che voi producete vi costa meno di quello a quanto lo vendete quindi questi sono i tre elementi di un DNA minimo per creare una nuova vita commerciale di un nuovo prodotto di un nuovo servizio questo è quello che noi insegniamo come si fa ad entrare in contatto con le vostre realtà diventare facilitatore sirolli.com è semplicissimo e poi siamo il nome Sirolli Ernesto Sirolli LinkedIn Marta Sirolli molto facile trovarci e cosa stai facendo adesso perché qualcuno qua un uccellino mi ha detto che stai scrivendo qualcosa di nuovo possibile si sto scrivendo qualcosa di nuovo con un amico australiano californiano stiamo parlando dell'importanza della innovazione ma perché è così difficile per governi e per corporations innovare e stiamo stiamo utilizzando questo pensiero molto provocato due pensieri che ci hanno dato un po' uno stimolo uno è di John Hegel che è il ex chairman del centro per the center for the edge il centro per edge confine il margine il centro del centro del margine non è male il centro del margine il centro del margine di Deloitte e John Hegel John Hegel scrisse un libro bellissimo qualche anno fa che si chiamava The Power of Pull il potere di attirare quindi tutto il marketing invece di spingere il prodotto non fai altro che creare un centro gravitazionale intorno a te o intorno al tuo prodotto o servizio che è talmente attraente che le persone vengono da te quindi è molto bello questo libro The Power of Pull quindi noi diciamo alle grandi aziende commerciali che questa idea di creare diventare talmente belle che diventi attraenti e poi l'altro pensiero è quello di si chiama The Joy Law la legge gioia gioia è il nome di una persona Bill Joy il quale disse una frase famosissima a Silicon Valley che è diventata una legge è uno scherzo logicamente ma questa legge Joy dice che no matter who you are the smartest people in the world don't work for you non importa chi tu sia come azienda le persone più intelligenti del mondo non lavorano per te quindi non avere illusioni che tu possa mai innovare da dentro la tua azienda perché le persone che tu hai dentro Motta dentro Ferrari dentro chiunque dentro Apple le persone che tu hai dentro l'azienda in questo momento non sono le persone più intelligenti del mondo perché numericamente è impossibile quindi non si innova mai dall'interno e tutti questi buffoni tutti questi che dicono creiamo un centro all'interno ricerca e sviluppo ricerca e facciamo il centro dell'innovazione facciamo i premi per chi innova di più dentro l'azienda non funziona mai è una cavolata pazzesca è fantoziana e quindi il nostro libro parla invece di un concetto meraviglioso che abbiamo il titolo è il titolo e il nome viene da un nome di un cowboy un cowboy australiano specializzato che nelle grandissime aziende agricole australiane esiste ed è una persona rarissima in giro per il mondo perché sono poche le aziende agricole di un milione di ettari in giro per il mondo invece in Australia la più grande sono 11 milioni di ettari credo una cosa del genere in queste aziende agricole enormi esiste un cowboy storicamente che si chiama The Boundary Rider The Boundary Rider è il cavalcatore dei confini lui che cosa fa? lui controlla che cosa succede ai margini dell'azienda ai margini e quindi l'innovazione e ti torna dicendo ho scoperto che lì la rete si era rotta qui sono entrati 400 cammelli selvaggi lì sono scappate lì e cosa succede? quindi noi nel nostro libro stiamo insegnando a governi aziende che devono avere all'interno delle loro organizzazioni devono trasformare le loro organizzazioni in organizzazioni di Boundary Riders dove se tu lavori per Pirelli lavori per Ferrari e sei una sera a cena il tuo figlio tua figlia hanno un paio di compagni universitari e stanno parlando di qualche cosa e tu arrizzi le orecchie dicendo di che cosa state parlando? loro stanno stanno parlando di machine learning e lui dice ma questo è interessantissimo allora vogliamo che le persone diventano tutti Boundary Riders ascoltano e capiscono alle periferie che cosa sta succedendo intellettualmente e hanno la capacità di portarle al centro ed invece di essere bastonati dal manager dicendo questo non è la nostra core competency questo non è il lavoro che devi fare tu hai un progetto da fare fai il progetto noi vogliamo che invece si crei all'interno dell'azienda c'è un facilitatore un agevolatore d'impresa all'interno che parla con questi Boundary Riders e gli aiuta a vedere se questo concetto ha valore e poi l'azienda si va a comprare o investe in quella piccolissima start up del figlio del capito quindi per noi quindi non sono dipendenti dell'azienda Boundary Riders si sono dipendenti che possono avere la decision possono decidere che invece di dire non lavoro più perché odio la mia azienda mi sono innamorato di machine learning e penso mi sarebbe interessante all'interno dell'azienda l'azienda dice guarda faccio un esempio Sears che era una delle più grandi aziende americane che per Sears Reebok era quella che aveva la Sears Tower di Chicago ti ricordi che facevano i cataloghi e tu potevi tutte le persone in campagna vedevano i cataloghi si compravano Sears era una delle più grandi retailers in america ed era minneapolis immagina che uno di Sears Reebok andasse dentro Sears a dire ho conosciuto questa coppia si chiamano Bezos e stanno studiando come vendere i libri sull'internet e immagina un Sears che dice ma che stupidaggina invece immagina la possibilità ha letto il libro di netflix del tipo del fondatore di netflix è andata così cioè lui aveva creato da chi è che era andato lui aveva intenzione di digitalizzare è andato da chi è che è andato da quello dei dei video dei video è andato da blockbuster e gli ha detto senti guarda è meglio che lo fate voi il capo di netflix perché voi avete più capitale più cose noi sappiamo che questa roba spaccherà i culi però non abbiamo ancora le energie finanziarie per farlo ma guarda sono venuti questi qua netflix dicono che sarà tutto digitale ci vediamo più avanti dopo pochi anni è fallita blockbuster quindi i boundary per noi bisogna ricordare ricordate questo non c'è geografia alla passione e alle intelligenze in questo momento abbiamo su 8 miliardi di persone sono molto pochi quindi soltanto c'è la middle class del mondo che partecipa attivamente a questi giochi sulla facilitazione di imprese il nostro pensiero di democratizzare questo rispetto perché non sappiamo mai da dove uscirà l'innovazione nuova e quindi è un grandissimo è un pensiero molto rispettoso le persone sono meravigliose sono dappertutto quello che dobbiamo fare essere molto rispettosi e creare un habitat che è un habitat imprenditoriale perché non abbiamo le tecnologie sostenibili per trasportare educare da mangiare vestire educare curare 8 miliardi di persone non abbiamo le tecnologie sostenibili quindi c'è un ruolo enorme per gli imprenditori enorme però deve essere basato sul fatto che dobbiamo aumentare quanti partecipanti ci saranno che potranno aiutare perché abbiamo bisogno di ogni oncia di intelligenza quindi io sono molto umanista in questo senso nel senso io credo nella capacità evolutiva della razza umana e guardo con enorme passione ed amore chiunque abbia un'idea di come migliorare la vita di altri siamo con te Ernesto e sirolli.com io adesso ho capito come voglio essere a 72 anni ragazzi ho capito stasera va bene con una Morgan con la Morgan con il baffetto una bella moglie insomma girare per la Sacramento andare a Carmel e insomma aiutare gli altri questa è l'unica cosa non voglio diventare vegano per il resto stasera niente cotoletta la milanese ok Ernesto grazie di cuore grazie per essere venuto è stata esperienza bellissima una suite di più di tre ore ovviamente poteva andare avanti per altre tre ore giustamente ci sono anche delle altre esigenze nella vita speriamo di proseguire la prossima volta che torno in Italia noi siamo qua quando passi da Milano citofona noi ma ci vedremo per il progetto ah certo ci contiamo vorrei veramente coinvolgerti perché i ragazzi giovani italiani devono capire perché sono come la cosa mi fa molto soffrire rivedo in tanti ragazzi italiani chi ero io e se potessi fare un qualche cosa per dargli il coraggio anche vedere gli ostacoli che sono invisibili aiutarli anche a vedere che sono degli ostacoli di fronte a loro però abbiamo delle possibilità culturalmente ogni volta che torno in Italia scopro qualche cosa di straordinario è un popolo di una bellezza incredibile e non vedo non riesco ancora a capire che cosa ci portiamo addosso che tipo di bagaglio culturale che ci fa così negativi questo sempre lamentarsi sempre lamentarsi comunque tanti ragazzi che sono andati all'estero e tornano tornano come se hanno fatto una sorta di di viaggio si gli va via questa negativa guarda che anch'io lo dico sempre a lui guarda che il nostro progetto se noi non fossimo andati fuori non fossimo tornati rimanendo in Italia non l'avremmo fatto no sono sicuro guarda ma che cos'è perché non so cosa ci sono secondo me è la polvere che c'è sui monumenti che abbiamo noi bisogna fare quello che ha raccontato fino adesso prendere un cazzo di cavallo cavalcare fino al confine e attraversare la soglia come fa l'eroe Ernesto grazie ci vedremo spero presto grazie buona serata a tutti missus launch imanizzare tennico grazie a tutti